II LIBRO DEI RE, CAPITOLO I Or dopo la morte di Aqab, Moab si ribellò contro Israele. Aqazia cade dalla cancellata della sala superiore di un suo appartamento a Samaria, e ne restò ammalato, e spedì dei messi dicendo loro, Andate a consultare Baal Zebub, dio di Ekron, per sapere se mi riavrò da questa malattia. Ma un angelo dell'Eterno disse ad Elia il Sibita, Levati, sali incontro ai messi del re di Samaria e di loro. E forse perché non vediamo Israele che voi andate a consultare Baal Zebub, dio di Ekron? Perciò così dice l'Eterno, tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai. Ed Elia se ne andò. I messi tornarono ad Aqazia, il quale disse loro, perché siete tornati? E quelli risposero, un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto, andate e tornate dal re che vi ha mandati e diteli, così dice l'Eterno. E forse perché non ve' alcun Dio in Israele che tu mandi a consultare Baal Zebub, dio di Ekron? Perciò non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai. Ed Aqazia chiese loro, com'era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole? Quelli gli risposero, era un uomo vestito di pelo, con una scintola di cuoio intorno ai fianchi. E Aqazia disse, è Alia il Sibita. Allora mandò un capitano di cinquanta uomini con la sua compagnia ad Elia. Quelli salì e trovò Elia che stava seduto in cima al monte. E il capitano gli disse, o uomo di Dio, il re dice scendi. Elia rispose e disse al capitano dei cinquanta, se io sono un uomo di Dio, scenda dal cielo del fuoco e consumi te e i tuoi cinquanta uomini. E dal cielo scese del fuoco che consumò lui e i suoi cinquanta. Aqazia mandò di nuovo un altro capitano di cinquanta uomini con la sua compagnia, il quale si rivolse a Elia e gli disse, O uomo di Dio, il re dice così, fa presto, scendi. Elia rispose e disse loro, se io sono un uomo di Dio, scenda dal fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi cinquanta uomini. E da cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi cinquanta. Aqazia mandò di nuovo il terzo capitano di cinquanta uomini con la sua compagnia. Questo terzo capitano di cinquanta uomini salì da Elia e, giunto presso a lui, gli si gittò davanti in ginocchio e lo supplicò dicendo, O uomo di Dio, ti prego, la mia vita e la vita di questi cinquanta tuoi servi sia preziosa agli occhi tuoi. Ecco che del fuoco è sceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani di cinquanta uomini con le loro compagnie. Ma ora sia la vita mia preziosa agli occhi tuoi. E l'angelo dell'Eterno disse ad Elia, scendi con lui, non aver timore di lui. Elia dunque si levò, scese col capitano, andò dal re e gli disse, così dice l'Eterno. Poiché tu hai spediti dei messi a consultare Barzebub Dio di Ekrom, quasi che non ci fosse in Israele alcun Dio da poter consultare, perciò tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai. E Acazia morì secondo la parola dell'Eterno pronunziata da Elia. E Jeoram cominciò a regnare invece di lui l'anno secondo di Jeoram, figliuolo di Giosafadre di Giuda, perché Acazia non aveva figliuoli. Ora il resto delle azioni compiute da Acazia sta scritto nel libro delle Cronache del re d'Israele. SECONDO LIBRO DEI RE CAPITOLO SECONDO Or, quando l'Eterno volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia si partì da Gilgal con Eliseo, ed Elia disse ad Eliseo, Fermati qui ti prego, poiché l'Eterno mi manda fino a Beto. Ma Eliseo rispose, Com'è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. Così discessero a Beto. I discepoli dei profeti che erano a Beto andarono a trovare Eliseo e gli dissero, Sai tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? Quelli rispose, Sì, io lo so, tascete. Ed Elia gli disse, Eliseo, fermati qui ti prego, perché l'Eterno mi manda a Gerico. E quelli rispose, Com'è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. E così se ne vennero a Gerico. E i discepoli dei profeti che erano a Gerico si accostarono ad Eliseo e gli dissero, Sai tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? E questi gli rispose, Sì, lo so, tascete. Ed Elia gli disse, Fermati qui ti prego, perché l'Eterno mi manda al Giordano. Quelli rispose, Com'è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino assieme. E cinquanta uomini di tra i discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di rimpetto a Giordano da lungi, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia presse il suo mantello, lo rotolò, e percosse le acque, le quali si divisero di qua e di là, in guisa che passarono ambedue a piedi asciutti. E passati che furono, Elia disse ad Eliseo, Chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia tolto. Ed Eliseo rispose, Ti prego, sia mi data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse, Tu domandi una cosa difficile, non di meno? Se tu mi vedi, quando io ti sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. E come essi continuavano a camminare discorrendo assieme, ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'un dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine. Ed Eliseo lo vide e si mise a gridare, Padre mio! Padre mio, carro di Israele e sua cavalleria! Poi non lo vide più. E afferrate le proprie vesti, le strappò in due pezzi, e raccolse il mantello che era caduto di dosso ad Elia, e tornò indietro, e si fermò sulla riva del Giordano. E preso il mantello che era caduto di dosso ad Elia, percosse le acque, e disse, Dov'è l'Eterno, l'iddio d'Elia? E quando egli ebbe percosse le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo passò. Quando i discepoli dei profeti, che stavano a Gerico di faccia al Giordano, ebbero visto Eliseo, dissero, Lo spirito dell'Elia si è posato sopra Eliseo. Egli si fecero incontro, e si inchinarono fino a terra davanti a lui, e gli dissero, Ecco qui fra i tuoi servi cinquanta uomini robusti, Lascia che vadano in cerca del tuo Signore, semmai lo Spirito dell'Eterno l'avesse preso e gettato su qualche monte o in qualche valle. Eliseo rispose, Non li mandate, ma insistettero tanto presto di lui, che Eine fu confuso e disse, Mandateli. Allora quelli mandarono cinquanta uomini, i quali cercarono Elia per tre giorni, e non lo trovarono. E quando furono tornati a lui, che si era fermato a Gerico, egli disse loro, Non v'avevo io detto di non andare? Or gli abitanti della città dissero a Eliseo, Ecco, il soggiorno di questa città è gradevole, come vede il mio Signore, ma le acque sono cattive, e il paese è sterile. Ed egli disse, Portatemi una scodella nuova, e mettetevi del sale. Quelli gliela portarono. Ed egli si recò alla sorgente delle acque, e vi gettò il sale, e disse, Così dice l'Eterno, Io rendo sane queste acque, ed esse non saranno più causa di morte, né di sterilità. Così le acque furono resse sane, e tali sono rimaste fino al di d'oggi, secondo la parola che Eliseo aveva pronunziata. Poi di là Eliseo salì a Beto, e come saliva per la via uscirono dalla città dei piccoli ragazzi, i quali lo beffeggiavano dicendo, Sei calvo, sei calvo! Egli si voltò, li vide, li maledisse nel nome dell'Eterno. E due orse uscirono dal bosco, che sbranarono quarantadue di quei ragazzi. Di là Eliseo si recò sul monte Carmel, Donde poi tornò a Samaria. Secondo Libro dei Re Capitolo Terzo Or Jehoram, figliuolo di Aqab, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria, l'anno decimo ottavo di Giosafat, re di Giuda, e regnò dodici anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, ma non quanto suo padre e sua madre, perché tolse via la statua di Baal che suo padre aveva fatta. Non di meno, egli rimase attaccato ai peccati con i quali Geroboamo, figliuolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele, e non se ne distolse. Ormesha, re di Moab, allevava molto bestiame, e pagava al re di Israele un tributo di centomila agnelli e centomila montoni con le loro lane. Ma morto che fu Aqab, il re di Moab si ribellò al re di Israele. Allora il re Jehoram uscì di Samaria e passò in rassegna tutto Israele, poi si mise in via e mandò a dire a Giosafat, re di Giuda, il re di Moab mi si è ribellato. Vuoi tu venire con me alla guerra contro Moab? Quelli rispose, verrò, fa conto di me come di te stesso, del mio popolo come del tuo, dei miei cavalli come dei tuoi, e soggiunse, perché via saliremo. E Jehoram rispose, per la via del deserto di Edom. Così il re di Israele, il re di Giuda e il re di Edom si mossero, e dopo aver girato a mezzodì con una marcia di sette giorni, mancò l'acqua all'esercito e alle bestie che gli andavano dietro. Allora il re di Israele disse, ahimè l'Eterno ha chiamati assieme questi tre re per darli nelle mani di Moab. Ma Giosafat chiese, non v'è egli qui alcun profeta dell'Eterno mediante il quale possiamo consultare l'Eterno? Uno dei servi del re di Israele rispose, v'è qui Eliseo, figliuolo di Shafat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia. E Giosafat disse, la parola dell'Eterno è con lui. Così il re di Israele, Giosafat, il re di Edom, andarono a trovarlo. Eliseo disse al re di Israele, che ho io da far con te, vattene ai profeti di tuo padre e dai profeti di tua madre. Il re di Israele gli rispose, no, perché l'Eterno ha chiamati insieme questi tre re per darli nelle mani di Moab. Allora Eliseo disse, com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti al quale io servo? Se non avessi rispetto a Giosafat, re di Giuda, io non avrei badato a te, né ti avrei degnato d'uno sguardo. Ma ora, condusetemi qua un suonatore d'arpa. E mentre il suonatore arpeggiava, la mano dell'Eterno fu sopra Eliseo, che disse, così parla l'Eterno, fate in questa valle delle fosse, delle fosse, poiché così dice l'Eterno, voi non vedrete vento, non vedrete pioggia, e non di meno questa valle si riempirà d'acqua, e berrete voi e il vostro bestiame e le vostre bestie da tiro. E questo è ancora poca cosa agli occhi dell'Eterno, perché egli darà anche Moab nelle vostre mani. E voi distruggerete tutte le città fortificate e tutte le città riguardevoli, abberterete tutti i suoi alberi, turerete tutte le sorgenti di acqua, e guasterete con delle pietre ogni buon pezzo di terra. La mattina dopo, nell'ora in cui soffre l'oblazione, ecco che l'acqua arrivò dal lato di Edom, e il paese ne fu repieno. Ora tutti i Moabiti, avendo udito che quei re erano saliti per muovere loro guerra, avevano radunato tutti quelli che erano in età di portare le armi, e occupavano la frontiera. La mattina, come furono alzati, il sole splendeva sulle acque, e i Moabiti videro, là di rimpetto a loro, le acque rosse come sangue, e dissero, quello è sangue. Quei re sono di certo venuti alle mani fra loro, e si sono distrutti fra loro. Ordunque Moab, alla preda, e si avanzarono verso il campo di Israele, ma sorsero gli israeliti, e li sbaragliarono, e i Moabiti fuggirono dinanzi a loro. Poi penetrarono nel paese, e continuarono a battere Moab, distrussero le città, ogni buon pezzo di terra lo riempirono di pietre, ciascuno gettandovi la sua, turarono tutte le sorgenti d'acqua, e abbatterono tutti i buoni alberi. Non rimasero che le mure di Kir e Resh, e i fondolieri la circondarono, e l'attaccarono. Il re di Moab, vedendo che l'attacco era troppo forte per lui, prese seco settecento uomini per aprirsi a spada tratta un varco fino al re di Edom, ma non poterono. Allora prese il suo figliuolo primogenito che aveva con sé, che doveva succederli nel regno, e l'offersino l'olocausto sopra le mura. A quella vista, un profondo orrore si impadronì degli israeliti che si allontanarono dal re di Moab, e se ne tornarono al loro paese. Secondo Libro dei Re Capitolo Quarto Ora una donna di tra le mogli dei discepoli dei profeti esclamò e disse ad Eliseo, «Mio marito tuo servo è morto, e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno, e il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figliuoli e farsene degli schiavi». Eliseo le disse, «Che debbo io fare per te? Dimmi, che hai tu in casa?» Ed ella rispose, «La tua serva non ha nulla in casa tranne un vasetto d'olio». Allora egli disse, «Va fuori, chiedi in prestito da tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti, e non ne chiedere pochi. Poi torna, serra l'uscio dietro a te e dai tuoi figliuoli e versa dell'olio in tutti quei vasi a man mano che saran pieni e falli mettere da parte». Ella dunque si partì da lui e si chiuse in casa coi suoi figliuoli. Questi le portarono i vasi ed ella vi versava l'olio. E quando i vasi furon pieni, ella disse ai suoi figliuoli, «Portatemi ancora un vaso». Quelli le rispose, «Non c'è più vasi». E l'olio si fermò. Allora ella andò e riferì tutto all'uomo di Dio che le disse, «Va a vendere l'olio e paga il tuo debito e di quel che resta sostentati tu e i tuoi figliuoli». Ora venne che un giorno Eliseo passava per Schumann e c'era qui una donna ricca che lo trattenne con premura perché prendesse cibo da lei e tutte le volte che passava di là si recava da lei a mangiare. Ed ella disse a suo marito, «Ecco, io son convinta che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, facciamogli costruire di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, una tavola, una sedia, un candeliere affinché quando verrà da noi egli possa ritirarvisi». Così un giorno che egli giunse a Schumann si ritirò su in quella camera e vi dormì e disse a Gehazi suo servo, «Ciama questa Schunamita» e quelli la chiamò ed ella si presentò davanti a lui ed Eliseo disse a Gehazi, «Or dile così, ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura che si può fare per te. Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito?» Ella rispose «Io vivo in mezzo al mio popolo» ed Eliseo disse «Che si potrebbe fare per lei?» Gehazi rispose «Ma, ella non ha figliuoli e il suo marito è vecchio» e Eliseo gli disse «Chiamala». Gehazi la chiamò ed ella si presentò alla porta ed Eliseo le disse «L'anno prossimo in questo stesso tempo tu abbraccerai un figliuolo» ed ella rispose «No, signor mio, tu che sei un uomo di Dio non ingannare la tua serva» e questa donna concepì e parto di un figliuolo in quel medesimo tempo. L'anno dopo come Eliseo le aveva detto il bambino nacque e il bambino si fe grande e un giorno che era uscito per andare da suo padre presso i miei titori disse a suo padre «Oh la mia testa la mia testa» il padre disse al suo servo «Portalo a sua madre» e il servo lo portò via e lo recò a sua madre e il fanciullo rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno poi si morì allora ella salì lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio chiuse la porta ed uscì e chiamato suo marito disse «Ti prego mandami uno dei servi e un'asina perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare» e il marito le disse «E perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il novilunio e non è sabato» e la rispose «Lascia fare» poi fecese la relassi e le disse al suo servo «Guidala e tira via non mi fermare per strada a meno che io te il dica» e la dunque partì e giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmel e come l'uomo di Dio l'ebbe scorta di lontano disse a Geasi suo servo «Ecco lasciò una mita che viene ti prego corre ad incontrarle e dille «Stai bene? Sta bene tuo marito? E il bambino sta bene?» Ed ella rispose «Stanno bene» e come fu giunta all'uomo di Dio sul monte e gli abbracciò i piedi Geasi si appressò per respingerla ma l'uomo di Dio disse «Lasciala stare perché l'anima sua è in amarezza e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato» la donna disse «Avevo io forse domandato al mio signore un figliuolo? Non ti dissi io non mi ingannare?» Allora Eliseo disse a Geasi «Cinci di fianchi prendi in mano il mio bastone e parti se ti imbatti in qualcuno non lo salutare e se alcuno ti saluta non gli rispondere e poserai il mio bastone sulla faccia del fanciullo» La madre del fanciullo disse ad Eliseo «Com'è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua io non ti lascerò» ed Eliseo si levò e le andò appresso Orgeasi che li aveva preceduti pose il bastone sulla faccia del fanciullo ma non ci fu né voce né segno alcuno di vita tornò quindi incontro ad Eliseo e gli riferì la cosa dicendo «Il fanciullo non si è svegliato» e quando Eliseo arrivò in casa ecco che il fanciullo era morto e adagiato sul letto di lui egli entrò si chiuse dentro col fanciullo e pregò l'Eterno poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo posse la sua bocca sulla bocca di lui i suoi occhi sugli occhi di lui le sue mani sulle mani di lui si distesse sopra di lui e le carni del fanciullo si riscaldarono poi Eliseo s'allontanò andò qua e là per la casa poi risalì si ridistesse sopra il fanciullo e il fanciullo stranuti sette volte ed ha perso gli occhi allora Eliseo chiamò Geasi gli disse chiama questa sciunamita egli la chiamò e come ella fu giunta da Eliseo questi le disse prendi il tuo figliolo ed ella entrò gli si gettò ai piedi e si prostrò a terra poi prese il suo figliolo ed uscì Eliseo se ne tornò a Gilgal e vera carestia nel paese ormentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui egli disse al suo servo metti il marmittone al fuoco e cuoci una minestra per i discepoli dei profeti uno di questi uscì fuori nei campi per cogliere delle erbe e trovò una specie di vita selvatica nei corse delle colloquittinde e se ne impì la veste e tornato che fu le tagliò a pezzi nella marmitta dove era la minestra poiché non si sapeva che cosa fossero poi versarono dalla minestra a quegli uomini perché mangiassero ma come l'ebbero guastata esclamarono c'è la morte nella marmitta uomo di dio non la poterò mangiare ed Eliseo disse ebbene portatemi della farina la gettò nella marmitta e disse versatene a questa gente che mangi e non c'era più nulla di cattivo nella marmitta giunse poi un uomo da bascia liscia che portò all'uomo di dio del pane delle primizie venti pani d'orso e del grano nuovo nella sua bisaccia Eliseo disse al suo servo danni alla gente che mangi quelli rispose come fare a por questo davanti a cento persone ma Eliseo disse danni alla gente che mangi perché così dice l'Eterno mangeranno e ne avanzerà e così egli pose quelle provviste davanti alla gente che mangiò e ne lasciò d'avanzo secondo la parola dell'Eterno secondo libro dei re capitolo quinto or Naman capo dell'esercito del re di Siria era un uomo in grande stima ed onore presso il suo signore perché per mezzo di lui l'Eterno aveva reso vittoriosa la Siria ma quest'uomo forte e prode era lebroso ora alcune bande di siri in una delle loro incursioni avevano condotta prigioniera nel paese da Israele una piccola fanciulla che era passata al servizio della moglie di Naman ed ella disse alla sua padrona oh se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria questi lo libererebbe dalla sua lebra Naman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo questa fanciulla del paese di Israele ha detto così e così il re di Siria gli disse ebbene va io manderò una lettera al re di Israele quegli dunque partì prese seco dieci talenti d'argento sei mila sicli d'oro e dieci mute di vestiti e portò al re di Israele la lettera che diceva or quando questa lettera ti sarà giunta saprai che ti mando Naman mio servo perché tu lo guarisca dalla sua lebra quando il re di Israele ebbe letta la lettera si stracciò le vesti e disse sono io forse Dio col potere di far morire e vivere che colui manda da me perché io guarisco un uomo della sua lebra tenete per cosa certa ed evidente che cerca dei pretesti contro di me quando Eliseo l'uomo di Dio ebbe udito che il re si era stracciato le vesti gli mandò a dire e perché ti sei stracciato le vesti venga pure colui da me e vedrà che vè un profeta in Israele Naman dunque venne con i suoi cavalli e dei suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo ed Eliseo gli inviò un messo a dirgli va lavati sette volte nel Giordano la tua carne tornerà sana e tu sarai puro ma Naman si adirò e se ne andò dicendo ecco io pensavo che egli usciva senza dubbio incontro a me si fermerà ed invocherà il nome dell'Eterno del suo Dio agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebroso i fiumi di Damasco l'Abanat il Falpar non sono essi migliori di tutte le acque di Israele non posso io lavarmi in quelli ed esser mondato e voltato si se ne andava infuriato ma i suoi servi gli si accostarono per parlargli e gli dissero padre mio se il profeta t'avesse ordinato una qualche cosa difficile non l'avresti tuffata quanto più ora che egli ti ha detto lavati e sarai mondato allora egli scese e si tuffò sette volte nel Giordano secondo la parola dell'uomo di Dio e la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e rimase puro poi tornò con tutto il suo seguito all'uomo di Dio andò a presentarsi davanti a lui e disse ecco io riconosco adesso che non v'è alcun Dio in tutta la terra fuorché in Israele ed ora ti prego accetta un regalo dal tuo servo ma Eliseo rispose come è vero che vive l'eterno di cui son servo io non accetterò nulla Nehman lo prestava ad accettare ma egli rifiutò allora Naaman disse poiché non vuoi permetti almeno che sia data al tuo servo tanta terra quanta ne portano due muli giacché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei ma solo all'eterno non di meno questa cosa voglia l'eterno perdonare il tuo servo quando il mio signore entra nella casa di Rimom per cui vi adorare e appoggiare il mio braccio che io mi prostro nel tempio di Ramon voglia l'eterno perdonare a me tuo servo quando io mi prostrerò così nel tempio di Ramon Eliseo gli disse va in pace ed egli si partì da lui e fece un buon tratto di strada ma Geasi servo di Eliseo uomo di Dio disse fra sé ecco il mio signore è stato troppo generoso con Naaman con questo siro non accettando dalla sua mano quello che gli aveva portato come è vero che l'eterno vive io gli voglio correre dietro e voglio avere da lui qualche cosa così Geasi corse dietro a Naaman e quando Naaman vide che gli correva dietro salto giù dal caro per andargli incontro e gli disse vai di tutto bene quelli rispose tutto bene il mio signore ti manda a dirti ecco proprio ora mi sono arrivati dalla contrada montuosa del Fraim due giovani dei discepoli dei profeti ti prego da loro un talento d'argento e due mute di vestiti Nathan disse piacciati accettare i due talenti e gli fece premura chiuse due talenti d'argento in due sacchi con delle mute e dei vestiti e li caricò addosso a due dei suoi servi che li portarono davanti a Geasi e giunto che fu alla collina prese i sacchi dalle loro mani li ripose nella casa e licenziò quegli uomini che se ne andarono poi andò a presentarsi davanti al suo signore Eliseo e gli disse donde viene Geasi questi rispose il tuo servo non è andato in verun luogo ma Eliseo gli disse il mio spirito non era egli là presente quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro è forse questo il momento di prendere denaro di prendere vesti e uliveti e vigne pecore buoi servi e serve la lebra di namans attaccherà perciò a te e alla tua progenie in perpetuo e Geasi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebroso bianco come la neve secondo libro dei re capitolo sesto i discepoli dei profeti dissero ad Eliseo ecco il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo angusto per noi lasciaci andare fino a Giordano ciascuno di noi prenderà là una trave e ci fare inquivi un luogo dove ci possiamo radunare Eliseo rispose andate e uno di loro disse abiti prego la compiacenza di venire anche tu con i tuoi servi ed egli rispose verrò e così andò con loro giunti che furono al Giordano si misero a tagliare legna e come l'undessi abbatteva una trave il ferro della scura li cade nell'acqua onde egli cominciò a gridare ah signor mio e l'avevo presa in prestito e l'uomo di Dio disse dov'è caduta e colui gli aditò il luogo allora Eliseo tagliò un pezzo di legno lo gettò in quel medesimo luogo e fece venire a galla il ferro e disse prendilo e quegli stese la mano e lo prese ora il re di Siria faceva guerra contro Israele ed in un consiglio che tenne con i suoi servi disse io porrò il mio campo nel tale tal luogo e l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele guardati dal frascurare quel tal luogo perché vi stan calando i siri e il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto e circa il quale l'aveva premunito e qui si mise in guardia il fatto avvenne non una né due ma più volte questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria che chiamò i suoi servi e disse loro non mi farete dunque sapere chi dei nostri è per il re di Israele uno dei suoi servi rispose nessuno o re mio signore ma Eliseo il profeta che è in Israele fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera dove dormi e il re disse andate vedete dov'è ed io lo manderò a pigliare gli fu riferito che era a Dotan e il re vi mandò cavalli carri in gran numero di soldati i quali giunsero di nottetempo e circondarono la città il servitore dell'uomo di Dio alzatosi di buon mattino uscì fuori ed ecco che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città e il servo disse all'uomo di Dio ah signor mio come faremo quelli rispose non temere perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro ed Eliseo pregò e disse oh eterno ti prego aprigli gli occhi affinché vegga e l'eterno aperse gli occhi al servo che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo e come i siri scendevano verso Eliseo questi pregò l'eterno e disse ti prego acceca con te sta gente e l'eterno l'accecò secondo la parola di Eliseo allora Eliseo disse loro non è questa la strada non è questa la città venitimi appresso ed io vi condurrò all'uomo che voi cercate e li menò a Samaria quando furono entrati in Samaria Eliseo disse oh eterno apri loro gli occhi affinché veggano e l'eterno aperse loro gli occhi e un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria e il re di Israele come li ebbe veduti disse ad Eliseo padre mio li debo colpire li debo colpire ed Eliseo rispose non li colpire colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e col tuo arco metti loro davanti del pane e dell'acqua affinché mangino e bevano e se ne ritornino al loro signore il re di Israele preparò loro gran copia di cibi e quando ebbero mangiato e bevuto li licenziò e quelli tornarono al loro signore e le bande dei siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele ora dopo queste cose avvenne che Benadad re di Siria radunato tutto il suo esercito salì contro Samaria e la scinse d'assedio e vi fu una gran carestia in Samaria e i siri la strinsero tanto da presso che una testa d'asino vi si vendeva ottanta sicri d'argento e il quarto d'un cab di sterco di Colombi cinque sicri d'argento or come il re di Israele passava sulle mura una donna gli gridò aiutami o re mio signore il re le disse se non ti aiuta l'eterno come posso aiutarti io con quel che dà l'aia o con quel che dà lo strettoio poi il re aggiunse che hai ed ella rispose questa donna mi disse dà qua il tuo figliolo che lo mangiamo oggi domani mangeremo il mio così coscemmo il mio figliolo e lo mangiamo il giorno seguente il re disse dà qua il tuo figliolo che lo mangiamo ma essa ha nascosto il suo figliolo quando il re ebbe udito le parole della donna si stracciò le vesti e come passava sulle mura il popolo vide che gli portava sotto un cilicio sulla carne e il re disse mi tratti Dio con tutto il suo rigore se oggi la testa di Eliseo e il figliolo di Shafat rimane ancora sulle sue spalle or Eliseo se ne stava seduto in casa sua e con lui stavano a sedere gli anziani il re mandò innanzi un uomo ma prima che questo messo giungesse Eliseo disse agli anziani lo vedete voi che questo figliolo di un assassino manda qualcuno a tagliarmi la testa badate bene quando arriva il messo chiudete la porta e tenetegliela ben chiusa in faccia non si sente già dentro a lui il rumore dei passi del suo signore egli parlava ancora con essi quando ecco scendere verso di lui il messo e il re disse ecco questo male viene dall'eterno che ho io più da sperare dall'eterno secondo libro dei re capitolo settimo allora Eliseo disse ascoltate la parola dell'eterno così dice l'eterno domani a quest'ora alla porta di Samaria la misura di fior di farina si avrà per un ciclo e due misure d'orso si avranno per un ciclo ma il capitano sul cui braccio il re si appoggiava rispose all'uomo di Dio ecco anche se l'eterno facesse delle finestre in cielo potrebbe mai avvenire una cosa si fatta Eliseo rispose ebbene lo vedrai con gli occhi tuoi ma non ne mangerai ora veran quattro lebrosi presso all'entrata della porta e quali dissero tra loro perché vogliamo noi restare qui affinché moriamo se diciamo entriamo in città in città c'è la fame e noi vi moreremo se restiamo qui moriremo lo stesso ordunque venite andiamoci a buttare nel campo dei siri se ci lasciano vivere vivremo se ci danno la morte morremo e sull'imbrunire si mossero per andare al campo dei siri e come furono giunti all'estremità del campo dei siri ecco che non vera alcuno il signore aveva fatto udire nel campo dei siri un rumore di carri un rumore di cavalli un rumore di un grande esercito sì che i siri avevano detto fra loro ecco il re di israele ha soldato contro di noi i re degli te i re degli egiziani perché vengono ad assalirci e si erano levati ed erano fuggiti sull'imbrunire abbandonando le loro tende i loro cavalli i loro asini e il loro campo così com'era erano fuggiti per salvarsi la vita quei lebrosi giunti che furono all'estremità del campo entrarono in una tenda mangiarono bevero portaron via argento oro vesti e andarono a nascondere ogni cosa poi tornarono e entrarono in un'altra tenda e anche là portarono via roba e andarono a nascondere ma poi dissero fra di loro noi non facciamo bene questo è giorno di buone novelle e noi ci tacciamo se aspettiamo finché si faccia giorno saren tenuti per colpevoli ordunque venite andiamo ad informare la casa del re e così partirono chiamarono i guardiani della porta di città e li informarono della cosa dicendo siamo andati al campo dei siri ed ecco che non v'è alcuno né vi so del voce d'uomo ma non vi sono né cavalli che attaccati e gli asini attaccati e le tende intatte allora i guardiani chiamarono e fecero sapere la cosa alla gente del re dentro il palazzo e il re si levò nella notte e disse ai suoi servi vi voglio dire io quel che ci hanno fatto i siri sanno che patiamo la fame sono quindi usciti dal campo a nascondersi per la campagna dicendo come usciranno dalla città li prenderemo vivi ed entreremo nella città uno dei suoi servi gli rispose ti prego si prende cinque dei cavalli che rimangano ancora nella città guardate sono come tutta la moltitudine di israele che ve è rimasta sono come tutta la moltitudine di israele che va in consumazione e ma andiamo a vedere di che si tratta presero dunque due carri con i loro cavalli e il re mandò degli uomini in traccia dell'esercito dei siri dicendo andate e vedete e quelli andarono in traccia dei siri fino a giordano ed ecco tutta la strada era piena di vesti di oggetti che i siri avevano gettati via nella loro fuga precipitosa e i messi tornarono e riferirono tutto al re allora il popolo uscì fuori e saccheggiò il campo dei siri e una misura di fior di farina si ebbe per un ciclo e due misure d'orso per un ciclo secondo la parola dell'Eterno il re aveva affidato la guardia della porta al capitano sul cui braccio si era appoggiato ma questo capitano fu calpestato dalla folla presso la porta e morì come aveva detto l'uomo di Dio quando aveva parlato al re che era sceso a trovarlo difatti quando l'uomo di Dio aveva parlato al re dicendo domani a quest'ora la porta di Samaria e due misure d'orso avranno per un ciclo e una misura di fior di farina per un ciclo quel capitano aveva risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto ecco anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo potrebbe mai avvenire una cosa siffata ed Eliseo gli aveva detto ebbene lo vedrai con gli occhi tuoi ma non ne mangerai e così gli avvenne e fu calpestato dalla folla presso la porta e morì secondo libro dei re capitolo ottavo or Eliseo aveva detto alla donna di cui aveva risuscitato il figliuolo levati vattene tu con la tua famiglia a soggiornare all'estero dove potrai perché l'Eterno ha chiamata la carestia e di fatti essa verrà nel paese per sette anni e la donna si levò e fece come le aveva detto l'uomo di Dio e se ne andò con la sua famiglia e soggiornò per sette anni nel paese dei Filistei finiti i sette anni quella donna tornò nel paese dal paese dei Filistei e andò a ricorrere al re per riavere la sua casa e le sue terre ora il re discorreva con Gehasi servo dell'uomo di Dio e gli diceva ti prego raccontami tutte le cose grandi che fece Eliseo e mentre appunto Gehasi raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto ecco che la donna di cui era stato risuscitato il figliuolo venne a ricorrere al re per riavere la sua casa e le sue terre e Gehasi disse o re mio signore questa è quella donna e questo è il suo figliuolo che Eliseo ha risuscitato il re interrogò con la donna che gli raccontò tutto e il re le dette un enucco al quale disse fatele restituire tutto quello che è suo e tutte le rendite delle terre dal giorno in cui ella lasciò il paese fino ad ora or Eliseo si recò a Damasco ben Adad re di Siria era malato e gli fu riferito che l'uomo di Dio era giunto colà allora il re disse ad Azahel prendi te con regalo va incontro all'uomo di Dio e consulta per mezzo di lui l'Eterno per sapere se io guarirò da questa malattia Azahel dunque andò incontro ad Eliseo portando seco in regalo tutto quello che vera di meglio in Damasco un carico di quaranta cammelli e come fu giunto si presentò ad Eliseo e gli disse il tuo figliuolo ben Adad re di Siria mi ha mandato a te per dirti guarirò io da questa malattia Eliseo gli rispose vagli a dire guarirai di certo ma l'Eterno mi ha fatto vedere che di sicuro morrà e l'uomo di Dio posò lo sguardo sopra a Isahel e lo fissò così a lungo da farlo arrossire poi si mise a piangere Isahel disse perché piange il mio signore Eliseo rispose perché so il male che tu farai ai figliuoli di Israele tu darai alle fiamme le loro fortezze ucciderai la loro gioventù con la spada schiaccerai i loro bambini e sventrerai le loro donne incinte Asahel disse ma che cosa mai il tuo servo questo cane per far le cose così grandi e Eliseo rispose l'Eterno mi ha fatto vedere che tu sarai il re di Siria Asahel si partì da Eliseo e tornò al suo signore e gli chiese che t'ha detto Eliseo questo rispose mi ha detto che guarirai di certo il giorno dopo Asahel prese una coperta la tuffò nell'acqua e la distresse sulla faccia di Benadad che morì e Asahel regnò in luogo suo or l'anno quinto di Gioran figliolo di Acab e di Israele Gioran figliolo di Giusef padre di Giuda cominciò a regnare su Giuda aveva trentadue anni quando cominciò a regnare e regnò otto anni in Gerusalemme e camminò per la via del re di Israele come aveva fatto la casa di Acab poiché aveva per moglie una figliola di Acab e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno non di meno l'Eterno non volle distruggere Giuda per amore di Davide suo servo conformemente alla promessa fatta di lasciare sempre una lampada a lui e dai suoi figlioli ai tempi suoi Edon si ribellò sottraendosi al gioco di Giuda e si dette un re allora Gioran passò a Zair con tutti i suoi carri e una notte si levò e sconfisse gli Edomiti che lo avevano accerchiato e i capitani dei carri e la gente di Gioran poté fuggire dalle proprie case così Edon si è ribellato e si è sottratto al gioco di Giuda fino al di Doji in quel medesimo tempo anche Libna si ribellò il rimanente delle azioni di Gioran e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei rei di Giuda e Gioran si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide e Acazia suo figliuolo regnò in luogo suo L'anno dodicesimo di Gioran figliuolo di Aqab e di Israele Acazia figliuolo di Jehoram re di Giuda cominciò a regnare aveva ventidue anni quando cominciò a regnare e regnò un anno a Gerusalemme sua madre si chiamava Talia nipote di Omri re di Israele egli camminò per la via della casa di Aqab e fece sciocchè male gli occhi dell'Eterno come la casa di Aqab perché era imparentato con la casa di Aqab e andò con Gioran figliuolo di Aqab e combatté contro Azael re di Siria a Ramoth di Galahad i siri ferirono Gioran e il re Gioran tornò a Israele per farsi curare delle ferite che aveva ricevuto quando combatteva contro Esael re di Siria ed Acazia figliuolo di Jehoram re di Giuda scese ad Israele per vedere Gioran figliuolo di Aqab perché questi era ammalato secondo libro dei re capitolo nono allora il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti e gli disse cingiti i fianchi prendite ecco questa ampolla d'olio e va a Ramoth di Galahad quando quando vi sarai arrivato cerca di vedere Jehu figliuolo di Jehoshaphat figliuolo di Ninshi entra fallo alzare in mezzo ai suoi fratelli menalo in una camera appartata poi prendi l'ampolla d'olio versegliela sul capo e digli così dice l'Eterno io ti ungo re di Israele poi apri la porta e fuggi senza indugiare così quel giovane il servo del profeta partì per Ramoth di Galahad e come vi fu giunto ecco che i capitani dell'esercito stavano seduti assieme e disse capitano ho da dirti una parola Jehu chiese a chi di tutti noi e quelli rispose a te capitano Jehu si alzò ed entrò in casa e il giovane gli versò l'olio sul capo dicendogli così dice l'Eterno lì Dio di Israele io ti ungo re del popolo dell'Eterno re di Israele e tu colpirai la casa di Acca tu signore ed io farò vendetta del sangue dei profeti mio servi e del sangue di tutti i servi dell'Eterno sopra Isabel e tutta la casa di Acca perirà e io sterminerò dalla casa di Acca fino all'ultimo uomo tanto chi è schiavo quanto chi è libero in Israele e ridurrò la casa di Acca come la casa di Geroboamo figlio di Nebat e come la casa di Bahasa figlio di Ahija e i cani divoreranno Isabel nel campo di Israel e non vi sarà chi le dia sepoltura poi il giovane aprì la porta e fuggì quando Gehù uscì per raggiungere i servi del suo Signore gli dissero va tutto bene perché quel pazzo è venuto da te ed egli rispose loro voi conoscete l'uomo e i suoi discorsi ma quelli gli dissero non è vero orsù diccelo e Gehù rispose e mi ha parlato così e così e mi ha detto così dice l'Eterno io tungo re di Israele allora ognuno d'essi si affrettò a togliersi il proprio mantello e stenderlo sotto Gehù su per i nudi gradini poi suonarono la tromba e dissero Gehù è re e Gehù figliolo di Jehozafat figliolo di Nimshi fece una congiura contro Joram or Joram con tutto Israele stava difendendo il ramo di Galah contro Hazahel re di Siria ma il re Joram era tornato a Isri per farsi curare delle ferite che aveva ricevuto dai siri combattendo contro Hazahel re di Siria e Gehù disse se così vi piace nessuno esca e fugga dalla città per andare a portare la nuova a Isri poi Gehù montò sopra un carro e partì per Isri perché qui vi si trovava Joram allettato e Acazia re di Giuda vera scesso per visitare Joram or la sentinella che stava sulla torre di Isri scorse la schiera numerosa di Gehù che veniva e disse vedo una schiera numerosa Joram disse prendi un cavaliere e mandalo incontro a coloro a dire recate pace un uomo un uomo a cavallo andò dunque incontro a Gehù e gli disse così dice il re recate pace Gehù rispose che importa a te della pace passa dietro a me e la sentinella fece il suo rapporto dicendo il messo è giunto fino a loro ma non torna indietro allora Joram mandò un secondo cavaliere che giunto da coloro disse così dice il re recate pace e Gehù rispose che importa a te della pace passa dietro a me e la sentinella fece il suo rapporto dicendo il messo è giunto fino a loro e non torna indietro a vederlo guidare si direbbe che è Gehù figliolo di Nimshi perché va a precipizio allora Joram disse allestite il carro e gli allestirono il carro e Joram re di Israele e Acazia re di Giuda uscirono ciascuno sul suo carro per andare incontro a Gehù e lo trovarono nel campo di Naboth di Israel e come Joram ebbe veduto Gehù gli disse Gehù recchi tu pace e Gehù rispose che pace vi può egli essere finché dura le fornicazioni di Isabel tua madre e le tante sue stregonerie allora Joram voltò indietro e si diede alla fuga dicendo ad Acazia siamo traditi Acazia ma Gehù impugnò l'arco e colpì Joram fra le spalle sì che la freccia gli uscì per il cuore ed egli stramazzò nel suo carro poi Gehù disse a Bitkar suo aiutante piglialo e buttalo nel campo di Naboth di Israel poiché ricordalo quando io e tu cavalcavamo assieme al seguito di Acav suo padre l'Eterno pronunciò contro di lui questa sentenza come è vero che ieri vidi il sangue di Naboth e il sangue dei suoi figlioli dice l'Eterno io ti renderò il contraccambio qui in questo campo dice l'Eterno piglialo dunque e buttalo in questo campo secondo la parola dell'Eterno Acazia re di Giuda veduto questo prese la fuga per la strada della casa del giardino ma Gehù li tenne dietro e disse tirate anche a lui sul carro e li tirarono alla salita di Gur che è vicino a Iblaem e Acaz fuggì a Megiddo e qui vi morì i suoi servi lo trasportarono sopra un carro a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo polcro coi suoi padri nella città di Davide e Acazia aveva cominciato a regnare sopra Giuda l'undicesimo anno di Joram figliuolo di Acab poi Gehù giunse a Isriu Isabel che lo seppe si diede il belletto agli occhi si acconciò il capo si mise alla finestra a guardare e come Gehù entrava per la porta della città ella gli disse Rechipace e novello Zunri uccisore del tuo signore Gehù alzò gli occhi verso la finestra e disse chi è per me chi e due o tre enucchi affacciato si volsero lo sguardo verso di lui e gli disse buttatela giù quelli la buttarono e il suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli Gehù le passò sopra calpestandola poi entrò mangiò e beve e quindi disse andate a vedere quella maledetta donna e sotterratela già che è figliola di re andarono dunque per sotterrarla ma trovarono di lei altro che il cranio e i piedi e le palme delle mani e tornarono a riferire la cosa a Gehù il quale disse questa è la parola dell'Eterno pronunziata per mezzo del suo servo Elia il Sibita quando disse i cani divoreranno la carne di Isabel nel campo di Trio e il cadavere di Isabel sarà nel campo di Isabel come le tame sulla superficie del suolo in guisa che non si potrà dire questa è Isabel secondo libro dei re capitolo decimo or verano a Samaria settanta figlioli di Aqab Gehù scrisse delle lettere le mandò a Samaria ai capi della città gli anziani e gli educatori dei figlioli di Aqab e in esse diceva subito che avrete ricevuto questa lettera giacché avete con voi i figlioli del vostro Signore e avete a vostra disposizione carri e cavalli nonché una città fortificata e delle armi scegliete il migliore e il più adatto fra i figlioli del vostro Signore mettetelo sul trono di suo padre e combattete per la casa del vostro Signore ma a quelli ebbero gran paura e dissero ecco due re non li han potuto resistere come potremo resisterli noi e il prefetto del palazzo il governatore della città gli anziani gli educatori dei figli di Aqab mandarono a dire a Gehù noi siamo tuoi servi e faremo tutto quello che ci ordinerai non eleggeremo alcuno come re fa tu quel che ti piace allora Gehù scrisse loro una seconda lettera nella quale diceva se voi siete per me e volete obbedire alla mia voce prendete le teste di quegli uomini dei figlioli del vostro Signore e venite da me domani a quest'ora a Isrio or i figlioli del re il numero di settanta stavano ai magnati della città che le educavano e come questi ebbero ricevuto la lettera appressero i figlioli del re li scannarono tutti e settanta poi misero le loro teste in ceste e le mandarono a Gehù a Isrio e un messo venne a Gehù a recargli la notizia dicendo hanno portato le teste dei figlioli del re Gehù rispose mettetele in due mucchi all'entrata della porta fino a domattina e la mattina dopo egli uscì fuori e fermatosi disse a tutto il popolo voi siete giusti ecco io congiurai contro il mio Signore e l'uccisi ma chi ha uccisi tutti questi riconoscete dunque che non cade a terra una parola di quello che l'Eterno pronunziò contro la casa di Aqab l'Eterno ha fatto quello che predisse per mezzo del suo servo Elia e Gehù fece morire tutti quelli che erano rimasti della casa di Aqab a Isri tutti i suoi grandi i suoi amici i suoi consiglieri senza che ne scampasse uno poi si levò e partì per andare a Samaria cammin facendo che fu alla casa di ritrovo dei pastori Gehù si imbatté nei fratelli di Acazia re di Giuda e disse chi siete voi quelli rispose siamo i fratelli di Acazia e scendiamo a salutare i figlioli del re e i figlioli della regina Gehù disse ai suoi pigliateli vivi e questi li presero vivi e li scannarono presso la cisterna della casa di ritrovo erano quarantadue e non ne scampò uno partitosi di là trovò Gehù Nadab figliolo di Rechab che gli veniva incontro lo salutò e gli disse il tuo cuore è diretto verso il mio come il mio verso il tuo e Gehù Nadab rispose lo è se è così disse Gehù dammi la mano Gehù Nadab gli dette la mano Gehù se lo fece salire vicino sul carro e gli disse vieni Meco e vedrai il mio zelo per l'eterno e lo menò via nel suo carro e giunto che fu a Samaria Gehù colpì tutti quelli che rimanevano della casa di Acaba a Samaria finché l'ebbe distrutta secondo la parola dell'eterno che aveva pronunziata per mezzo di Elia poi Gehù radunò tutto il popolo e gli parlò così Acaba ha servito un poco Baal Gehù lo sorverà di molto per convocare presto di me tutti i profeti di Baal tutti i suoi servi tutti i suoi sacerdoti che non manchi uno perché voglio fare un gran sacrificio a Baal chi mancherà non vivrà ma Gehù faceva questo con astuzia per distruggere gli adoratori di Baal e disse bandite una festa solenne in onore di Baal e la festa fu bandita e Gehù inviò dei messi per tutto Israele e tutti gli adoratori di Baal vennero e neppure uno fu che mancasse di venire entrarono nel tempio di Baal e il tempio di Baal fu ripieno da un capo all'altro e Gehù disse a colui che aveva in custodia le vestimenta metti fuori le veste per tutti gli adoratori di Baal e quelli mise loro fuori le vesti allora Gehù con Geonadab figliolo di Recap entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal cercate bene e guardate che non ci sia qui con voi alcun servo dell'Eterno ma ci siano soltanto gli adoratori di Baal e quelli entrarono per offrire dei sacrifici e degli olocasti o Gehù aveva appostati fuori del tempio ottanta uomini ai quali aveva detto colui che lascerà fuggire qualcuno degli uomini che io metto in poter vostro pagherà con la sua vita la vita di quello e come fu finita l'offerta dell'olocausto Gehù disse ai soldati e ai capitani entrate uccideteli e che non ne scappa uno ed essi ripassarono a fil di spada poi soldati e capitani ne buttarono là i cadaveri e penetrarono nell'edificio del tempio di Baal portarono fuori le statue del tempio di Baal le bruciarono mandarono in frantumi la statua di Baal e demolirono il tempio di Baal e lo ridussero in un immondizzaio che sussiste anche oggi così Gehù stirpò Baal da Israele non di meno egli non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo figliolo di Nebat aveva fatto peccare Israele non abbandonò cioè i vitelli d'oro che erano a Beto e a Dan e l'Eterno disse a Gehù perché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto agli occhi miei e hai fatto alla casa di Acab tutto quello che mi stava nel cuore i tuoi figlioli sederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione ma Gehù non si die premura di seguire con tutto il cuore la legge dell'Eterno dell'Idio di Israele non si dipartì dai peccati con i quali Geroboamo aveva fatto peccare Israele in quel tempo l'Eterno cominciò a diminuire il territorio di Israele Asahel di fatti sconfisse gli israeliti su tutta la loro frontiera da Giordano verso Oriente soggiogò tutto il paese di Gala i Gaditi i Reboniti i Menassiti fino ad Aroer che è presso la valle del Arnon vale a dire tutto il paese di Gala e di Bashan il rimanente delle azioni di Geo tutto quello che fece e tutte le sue prodezze si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele e Geo si addormentò con suoi padri e lo seppellirono a Samaria e Teokahz suo figliuolo regnò in luogo suo e il tempo che Geo regnò sopra Israele a Samaria fu diventot'anni Secondo Libro dei Re Capitolo Undicesimo Orquando Atalia madre di Acazia vide che il suo figliuolo era morto si levò e distrusse tutta la stirpe reale ma Geo Sheba figliuola del re Joram sorella di Acazia prese Joas figliuolo di Acazia e lo trafugò di mezzo ai figliuoli del re che erano stati messi a morte e lo pose con la sua balia nella camera dei letti così fu nascosto alle ricerche di Atalia e non fu messo a morte e rimase nascosto con Geo Sheba per sei anni nella casa dell'Eterno intanto Atalia regnava sul paese il settimo anno Geo Iada mandò a chiamare i capi centurie delle guardie del corpo dei soldati e li fece venire a sé nella casa dell'Eterno fermò un patto con essi fece loro prestare giuramento nella casa dell'Eterno e mostrò loro il figliuolo del re poi diede loro i suoi ordini dicendo ecco quel che voi farete un terzo di quelli fra voi che entrano in servizio il giorno del sabato starà di guardia alla casa del re un altro terzo starà alla porta di sur e un altro terzo starà alla porta che è dietro alla caserma dei soldati e farete la guardia alla casa impedendo a tutti l'ingresso e le altre due parti di voi tutti quelli che escono di servizio il giorno del sabato staranno di guardia alla casa dell'Eterno intorno al re e circonderete bene il re ognuno con le armi alla mano e chiunque cercherà di penetrare nelle vostre file sia messo a morte e voi starete con il re quando uscirà e quando entrerà i capi centuri eseguirono tutti gli ordini dati dal sacerdote Geoiada ognun dessi prese i suoi uomini quelli che erano in servizio il giorno di sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno del sabato e si recarono dal sacerdote Geoiada e il sacerdote diede ai capi centuri e le lance e gli scudi che avevano appartenuto al re Davide che erano nella casa dell'Eterno i soldati con le armi alla mano pressero posto all'angolo meridionale della casa fino all'angolo setenzionale della casa fra l'altare e l'edificio in modo da proteggere il re da tutte le parti allora il sacerdote menò fuori il figliolo del re e gli pose in testa il diadema e gli consegnò la legge e proclamarono re lo unsero e battendo le mani sclamarono viva il re or Atalia udì il rumore dei soldati e del popolo e andò verso il popolo nella casa dell'Eterno guardò ed ecco che il re stava in piedi sul palco secondo l'uso i capitani e i trombettieri erano accanto al re e tutto il popolo del paese era in festa e davano alle trombe allora Atalia si stracciò le vesti e gridò con giura con giura ma il sacerdote Gioiada diede i suoi ordini ai capi centurie che comandavano l'esercito e disse loro fatela uscire di tra le file e chiunque la seguirà si è ucciso di spada poiché il sacerdote aveva detto non sia messa a morte nella casa dell'Eterno così quelli le fecero largo ed ella giunse alla casa del re per la strada della porta dei cavalli e qui vi fu uccisa Gioiada affermò tra l'Eterno il re e il popolo il patto per il quale Israele doveva essere il popolo dell'Eterno e fermò pure il patto fra il re ed il popolo e tutto il popolo del paese entrò nel tempio di Baal e lo demolì fece interamente in pezzi sui altari le sue immagini e uccise dinanzi agli altari mattan sacerdote di Baal poi il sacerdote Gioiada pose delle guardie alla casa dell'Eterno e prese i capi centuri e le guardie del corpo i soldati e tutto il popolo del paese e fescero scendere il re dalla casa dell'Eterno e giunsero alla casa del re per la strada della porta dei soldati e Gioas si assise sul trono del re e tutto il popolo del paese fu in festa e la città rimase tranquilla quando Atalia fu uccisa di spada nella casa del re Gioas aveva sette anni quando cominciò a regnare secondo libro del re capitolo dodicesimo l'anno settimo di Gioas cominciò a regnare e regnò quarant'anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Zibia di Beersheba e Gioas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno per tutto il tempo in cui fu diretto dal sacerdote Gioiada non di meno gli altri luoghi non scomparvero il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli altri luoghi Gioas disse ai sacerdoti tutto il denaro consacrato che sarà recato alla casa dell'Eterno vale a dire il denaro versato da ogni istraelita censito il denaro che paga per il suo riscatto personale secondo la stima fatta dal sacerdote tutto il denaro che a qualunque persona venga in cuore di portare alla casa dell'Eterno i sacerdoti lo ricevano ognuno dalle mani dei suoi conoscenti e se ne servano per fare i restauri alla casa dovunque si troverà qualcosa da restaurare ma fino al ventesimo terzo anno del re Gioas i sacerdoti non avevano ancora eseguito i restauri alla casa allora il re Gioas chiamò il sacerdote Gioiada e gli altri sacerdoti e disse loro perché non restaurate quel che c'è da restaurare nella casa da allora innanzi dunque non riceverete più denaro dalle mani dei vostri conoscenti ma lasciatelo per restauri della casa i sacerdoti acconsentirono a non ricevere più denaro dalle mani del popolo e a non aver più per l'incarico dei restauri della casa il sacerdote Gioiada prese una cassa le fece un buco nel coperchio e la collocò presso all'altare a destra entrando nella casa dell'eterno e i sacerdoti che custodivano la soglia rimettevano tutto il denaro che era portato alla casa dell'eterno e quando vedevano che vera molto denaro nella cassa il segretario del re il sommo sacerdote salivano a serrare le borse e a contare il denaro che si trovava nella casa dell'eterno poi rimettevano il denaro così pesato nelle mani dei direttori preposti ai lavori della casa dell'eterno i quali ne pagavano i legnaiuoli e i costruttori che lavoravano alla casa dell'eterno i muratori e gli scarpellini compravano i legnami le pietre da saliare occorrenti per restaurare la casa dell'eterno e provvedevano a tutte le spese relative ai restauri della casa ma col denaro che era portato alla casa dell'eterno non si fecero per la casa dell'eterno né coppe d'argento né smoccolatoi né bacini né trombe né alcun altro utensile d'oro d'argento il denaro si dava a quelli che facevano l'opera ed essi lo impiegavano restaurare la casa dell'eterno e non si faceva rendere conto a quelli nelle cui mani si rimetteva il denaro per pagare chi eseguiva il lavoro perché esegivano con fedeltà il denaro dei sacrifici di riparazione e quello dei sacrifici per il peccato non si portava alla casa dell'eterno era per i sacerdoti in quel tempo Asahel re di Siria salì a combattere contro Gath e la prese poi si dispose a salire contro Gerusalemme allora Gioas re di Giuda prese tutte le cose sacre che i suoi padri Giosafat Jehoram Acazia re di Giuda avevano consacrate e quelle che aveva consacrate gli stessi e tutto l'oro che si trovava nei tesori della casa dell'Eterno e della casa del re e mandò ogni cosa ad Esahel re di Siria il quale si ritirò da Gerusalemme il rimanente delle azioni di Gioas e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda i servi di Gioas si sollevarono fecero una congiura e lo colpirono nella casa di Millo sulla discesa di Silla Giosacar figliolo di Shimea e Jehozabad figliolo di Shomer suoi servi lo colpirono ed egli morì e fu sepolto coi suoi padri nella città di Davide e Amazia suo figliolo regnò in luogo suo secondo libro dei re capitolo tredicesimo l'anno ventesimo terzo di Gioas figliolo di Acazia re di Giuda Gioacar figliolo di Geu cominciò a regnare sopra Israele e Samaria e regnò diciassette anni egli fece sciocche male agli occhi dell'Eterno imitò i peccati con i quali Geroboamo figliolo di Nebata aveva fatto pecare Israele e non se ne ritrassi e l'ira dell'Eterno si accese contro gli israeliti ed egli li diede nelle mani di Hazahel re di Siria e nelle mani di Benadat figliolo di Hazahel per tutto quel tempo ma Gioacar implorò l'Eterno e l'Eterno lo esaudì perché vide l'oppressione sotto la quale il re di Siria teneva Israele e l'Eterno diede un liberatore agli israeliti i quali riuscirono a sottrarsi al potere dei siri in guisa che i figlioli di Israele poterono dimorare nelle loro tende come per l'addietro ma non si ritrassero dai peccati con i quali la casa di Geroboamo aveva fatto pecare Israele e continuarono a camminare per quella via perfino l'idolo di Astarte rimase in pie a Samaria di tutta la sua gente a Joachaz l'Eterno non aveva lasciato che cinquanta cavalieri dieci carri e diecimila fanti perché il re di Siria li aveva distrutti e li aveva ridotti come la polvere che si calpesta il rimanente delle azioni di Joachaz e tutto quello che fece e tutte le sue prudezze sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele Joachaz si addormentò coi suoi padri e fu sepolto a Samaria e Joachaz suo figliuolo regnò in luogo suo l'anno trentasettesimo di Joachaz re di Giuda Joachaz figliuolo di Joachaz cominciò a regnare sopra Israele e Samaria e regnò sedici anni e gli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno non si ritrasse da alcuno dei peccati con i quali Geroboamo figliuolo di Nebat aveva fatto pecare Israele ma batte anche egli la stessa strada il rimanente delle azioni di Joachaz e tutto quello che fece e il valore col quale combatte contro Amazia re di Giuda sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele Joachaz si addormentò coi suoi padri e Geroboamo salì sul trono di lui e Joachaz fu sepolto a Samaria con i re di Israele or Eliseo cadde malato di quella malattia che lo doveva condurre alla morte e Joach re di Israele scese a trovarlo e pianse su lui e disse padre mio padre mio caro di Israele e la sua cavalleria ed Eliseo gli disse prendi un arco e delle frecce e Joach prese un arco e delle frecce ed Eliseo disse al re di Israele impugna l'arco e quelli impugnò l'arco ed Eliseo posò le sue mani sulle mani del re poi gli disse apri la finestra a Levantie e Joach allora Eliseo disse tira e quelli tirò ed Eliseo disse questa è una freccia di vittoria da parte dell'Eterno la freccia della vittoria contro la Siria tu sconfiggerai i siri ad Affec fino a sterminarli poi disse prendi le frecce Joach le prese ed Eliseo disse al re di Israele percuoti il suolo ed egli lo percosse tre volte indi si fermò l'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse avresti dovuto percuoterlo cinque o sei volte allora tu avresti sconfitto i siri fino a sterminarli mentre adesso non lo sconfiggerai che tre volte Eliseo morì e fu sepolto l'anno seguente delle bande dei moabiti fecero una scorreria nel paese ed avvenne mentre i certuni stavano seppellendo un morto che scorsero una di quelle bande e gettarono il morto nel sepolcro di Eliseo il morto non appena ebbe toccate le ossa di Eliseo risuscitò e si levò in piedi or Asaer di Siria aveva oppresso gli israeliti durante tutta la vita di Joachaz ma l'Eterno fece loro grazie e ne ebbe compassione e fu loro favorevole per l'amore del suo patto con Abramo con Isacco e con Giacobbe e non li volle distruggere e fino ad ora non li ha rigettati dalla sua presenza Asaer re di Siria morì e Benadat suo figliuolo regnò in luogo suo e Joachaz figliuolo di Joachaz ritolse di sua mano a Benadat figliuolo di Asaer le città che Asaer aveva preso in guerra e Joachaz suo padre tre volte Joachaz lo sconfisse e ricuperò così le città di Israele secondo libro del re capitolo quattordicesimo l'anno secondo di Joachaz figliuolo di Joachaz re di Israele cominciò a regnare Amazia figliuolo di Joachaz re di Giuda aveva venticinque anni quando cominciò a regnare regnò ventinove anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Geoaddan ed era di Gerusalemme egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno non però come Davide suo padre fece interamente come aveva fatto Joach suo padre non di meno gli altri luoghi non furono soppressi il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli altri luoghi e non appena il potere reale fu assicurato nelle sue mani egli fece morire quei servi suoi che avevano ucciso il re suo padre ma non fece morire i figliuoli degli uccisori secondo che è scritto nel libro della legge di Mosè dove l'Eterno ha dato questo comandamento i padri non saranno messi a morte a cagione dei figliuoli nei figliuoli saranno messi a morte a cagione dei padri ma ciascuno sarà messo a morte a cagione del proprio peccato egli uccise diecimila idumei nella valle del sale e in questa guerra prese sela e la dette nome di Joketil che ha conservato fino all'idoggi allora Amazia inviò dei messi a Joas figliuolo di Joachas figliuolo di Jehu re di Israele per dirgli vieni mettiamoci faccia a faccia e Joas re di Israele fece dire ad Amazia re di Giuda lo spino del Libano mandò a dire al centro del Libano dalla tua figliuola per moglie al mio figliuolo e le bestie selvagge del Libano passarono e calpestarono lo spino tu hai messo in rotta gli dumei e il tuo cuore ti ha reso orgoglioso godi della tua gloria è stata in a casa tua perché impegnarti in una disgraziata impresa che menerebbe alla rovina te e Giuda con te ma Amazia non gli volle dar retta così Joas re di Israele salì contro Amazia ed egli Amazia re di Giuda si trovarono faccia a faccia a Bed Shemesh che apparteneva a Giuda Giuda rimase sconfitto da Israele e quei di Giuda fuggirono ognuno alla sua tenda e Joas re di Israele fece prigioniero a Bed Shemesh Amazia re di Giuda figliuolo di Joas figliuolo di Acazia poi venne a Gerusalemme e fece una breccia di quaratrocento cubiti nelle mura di Gerusalemme alla porta di Efraim alla porta dell'angolo e prese tutto l'oro e l'argento e tutti i vasi che si trovavano nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa del re prese anche degli ostaggi e se ne tornò a Samaria il rimanente delle azioni di Joas il suo valore e come combatté contro Amazia re di Giuda sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele Joas si addormentò con i suoi padri e fu sepolto a Samaria con i re di Israele e Geroboamo suo figliuolo regnò in luogo suo Amazia figliuolo di Joas re di Giuda visse ancora quindici anni dopo la morte di Joas figliuolo di Giacchez re di Israele il rimanente delle azioni di Amazia si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda fu ordita contro di lui una congiura a Gerusalemme ed egli fuggì all'Achis ma lo fecero inseguire fino all'Achis e qui vi fu messo a morte di là fu trasportato sopra cavalli e quindi sepolto a Gerusalemme con i suoi padri nella città di Davide e tutto il popolo di Giuda prese Asaria che aveva allora sedici anni e lo fece re in luogo di Amazia suo padre egli riedificò Elat e la riconquistò a Giuda dopo che il re si fu addormentato con i suoi padri l'anno quindicesimo di Amazia figliolo di Joas re di Giuda cominciò a regnare a Samaria Geroboamo figliolo di Joas re di Israele e regnò quarantun anni egli fece quello che è male agli occhi dell'Eterno non si ritrasse da alcuno dei peccati con i quali Geroboamo figliolo di Nebat aveva fatto pecare Israele egli ristabilì i confini di Israele all'ingresso di Amat al mare della pianura secondo la parola che l'Eterno l'Ideo di Israele aveva pronunziata per mezzo del suo servitore il profeta Giona figliolo di Amitai che era di Gat e Fer poiché l'Eterno vide che l'afflizione di Israele era amarissima che schiavi e liberi erano ridotti all'estremo e che non c'era più alcuno che soccorresse Israele l'Eterno non aveva parlato ancora di cancellare il nome di Israele di sotto al cielo quindi li salvò per mano di Geroboamo figliolo di Joas il rimanente delle azioni di Geroboamo e tutto quello che fece il suo valore in guerra e come riconquistò a Israele da Amasco e Amat che avevano appartenuto a Giuda si trova scritto nel libro delle cronache del re di Israele Geroboamo si addormentò con i suoi padri i re di Israele e Zaccaria suo figliolo regnò in luogo suo secondo libro dei re capitolo quindicesimo l'anno ventesimo di Geroboamo re di Israele cominciò a regnare a Zaria figliolo di Amazia re di Giuda aveva sedici anni quando cominciò a regnare e regnò cinquantadue anni Gerusalemme sua madre si chiamava Gecolia ed era di Gerusalemme egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Amazia suo padre non di meno gli altri luoghi non furono soppressi il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli altri luoghi e l'Eterno colpì il re che fu lebroso fino al giorno della sua morte e visse nell'infermeria e Giotan figliolo del re era a capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese il rimanente delle azioni di Azaria e tutto quello che fece trovasi scritto nel libro delle cronache del re di Giuda Azaria si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri lo seppellirono nella casa di Davide e Giotan suo figliolo regnò in luogo suo il trentottesimo anno di Azaria re di Giuda Zaccaria figliolo di Geroboamo cominciò a regnare sopra Israele a Samaria e regnò sei mesi e gli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno come avevano fatto i suoi padri non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo figliolo di Nebat aveva fatto pecare Israele e Eshalo figliolo di Jabesh congiurò contro di lui e lo colpì in presenza del popolo l'uccise e regnò in sua vece il rimanente delle azioni di Zaccaria trovasi scritto nel libro delle cronache dei re di Israele così si avverò la parola dell'Eterno che era stata detta a Jehu i tuoi figlioli sederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione e così avvenne Shalom figliolo di Jabesh cominciò a regnare l'anno trentanovesimo di Uzzia re di Giuda e regnò un mese a Samaria e Menahem figliolo di Gadi salì da Tirza e venne a Samaria colpì in Samaria Shalom figliolo di Jabesh l'uccise e regnò in luogo suo il rimanente delle azioni di Shalom e la congiura che gli ordì sono cose scritte nel libro delle cronache del re di Israele allora Menahem partito da Tirza colpì Tiffsa tutto quello che si trovava e il suo territorio la colpì perché essa non le aveva aperte le sue porte e tutte le donne che ci si trovarono incinte le fece sparare l'anno trentanovesimo del regno di Alzzaria re di Giuda Menahem figliolo di Gadi cominciò a regnare sopra Israele e regnò dieci anni a Samaria e lì fece sciocche e male agli occhi dell'Eterno e non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo figliolo di Nebat aveva fatto peccare Israele ai suoi tempi Puh re di Assiria fece l'invasione del paese e Menahem diede a Puh mille talenti d'argento affinché gli desse manforte per assicurarsi nelle sue mani il potere reale e Menahem fece pagare quel denaro ad Israele a tutti quelli che erano molto ricchi per darlo al re di Assiria li tassò a ragione di cinquanta sicli d'argento a testa così il re di Assiria se ne tornò via e non si fermò nel paese il rimanente delle azioni di Menahem e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele Menahem si addormentò con i suoi padri e Pecaccia suo figliolo regnò in luogo suo il cinquantesimo anno di Assiria re di Giuda Pecaccia figliolo di Menahem cominciò a regnare sopra Israele e Samaria e regnò due anni egli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno e non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo figliolo di Nebat aveva fatto pecare Israele e Pecac figliolo di Remalia suo capitano con girò contro di lui e lo colpì a Samaria e con lui Argob e Arrek nella torre del palazzo reale aveva seco cinquanta uomini di Galahad uccise Pecaccia e regnò in luogo suo il rimanente delle azioni di Pecaccia e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei rei di Israele l'anno cinquantesimo secondo di Azaria re di Giuda Pecaccia figliolo di Remalia cominciò a regnare sopra Israele e Samaria e regnò vent'anni egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo figliolo di Nebat aveva fatto peccare Israele al tempo di Pecaccia re di Israele venne Tiglat per Isar re di Assiria e prese Ijon Abel Bet Maacca Janok Kadesh Azor Galahad la Galilea e tutto il paese di Neftali e nemmeno gli abitanti in cattività in Assiria Osea figliolo di Ela ordì una congiura contro Pecaccia figliolo di Remalia lo colpì l'uccise e regnò in luogo suo l'anno ventesimo del regno di Giotan figliolo di Uzzia il rimanente delle azioni di Pecaccia tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache del re di Israele l'anno secondo del regno di Pecaccia figliolo di Remalia re di Israele cominciò a regnare Giotan figliolo di Uzzia re di Giuda aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò sedici anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Gerusha figliola di Zadok egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Uzzia suo padre non di meno gli altri luoghi non furono soppressi il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli altri luoghi Giotan costruì la porta superiore della casa dell'Eterno il rimanente delle azioni di Giotan tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache del re di Giuda in quel tempo l'Eterno cominciò a mandare contro Giuda re Zinre di Siria e Peccas figliolo di Remalia Giotan si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide suo padre e da caso figliolo regnò in luogo suo secondo libro dei re capitolo sedicesimo l'anno diciassettesimo di Peccas figliolo di Remalia cominciò a regnare a Cas figliolo di Giotan re di Giuda a Cas aveva vent'anni quando cominciò a regnare e regnò sedici anni a Gerusalemme egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno il suo Dio come aveva fatto Davide suo padre ma seguì la via dei re di Israele e fece perfino passare il suo figliolo per il fuoco seguendo le abominazioni delle genti che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figlioli di Israele e offriva sacrifici e profumi sugli altiluoghi sulle colline sotto ogni albero verdeggiante allora Rezzin re di Siria e Pecca figliolo di Remalia re di Israele salirono contro Gerusalemme per assalirla e vi assediarono a Cas ma non riuscirono a vincerlo in quel tempo Rezzin re di Siria riconquistò Elat alla Siria cacciò i giudei da Elat e i siri entrarono in Elat dove sono rimasti fino al di oggi a Cas inviò dei messi a Tigla per i seri re degli assiri per dirgli io sono tuo servo e tuo figliolo sali qua e liberami dalle mani del re di Siria e dalle mani del re di Israele che sono sorti contro a me e a Cas prese l'argento e l'oro che si poté trovare nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa reale e li mandò in dono al re degli assiri il re d'Assiria li dia ascolto salì contro Damasco la prese nemmeno gli abitanti in cattività a Akir e fece e fece morire Rezin e il re a Cas andò a Damasco incontro a Tiglat per i seri di Assiria e avendo veduto l'altare che era Damasco il re a Cas mandò al sacerdote Uria il disegno e il modello di quell'altare e tutti i suoi particolari e il sacerdote Uria costruì un altare esattamente secondo il modello che il re a Cas le aveva mandato da Damasco e il sacerdote Uria lo costruì prima del ritorno del re a Cas da Damasco al suo ritorno da Damasco il re vide l'altare e vi si accostò e vi salì e vi fece ardere sopra il suo locausto e la sua offerta vi versò la sua liberazione e vi sparse il sangue dei suoi sacrifici e gli azioni di grazie l'altare di rame che era dinanzi all'Eterno perché non fosse fra il nuovo altare e la casa dell'Eterno lo pose al lato del nuovo altare verso settentrione e il re a Cas chiede quest'ordine al sacerdote Uria fa fumare sull'altare grande olocausto al del mattino e l'oblazione della sera l'olocausto del re e la sua oblazione e gli olocausti di tutto il popolo del paese e le sue oblazioni versavi le loro libazioni e spandivi tutto il sangue degli olocausti e tutto il sangue dei sacrifici quando l'altare di rame toccherà a me a pensarvi e il sacerdote Uria fece tutto quello che il re a Cas le aveva comandato e il re a Cas spezzò anche i riquadri delle basi e ne tolse le conche che erano qui vi sopra trasse giù il mare di suoi buoi di rame che lo reggevano e lo postò sopra un pavimento di pietra mutò pure nella casa dell'Eterno motivo del re d'Assiria il portico del sabato che era stato edificato nella casa e l'ingresso esterno riservato al re il rimanente delle azioni compiute da Acas si trova scritto nel libro delle cronache del re di Giuda Acas si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide ed Esacchia suo figliolo regnò in luogo suo secondo libro dei re capitolo dicesettesimo l'anno dodicesimo di Acas re di Giuda Osea figliolo di Elat cominciò a regnare sopra Israele a Samaria e regnò nove anni egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno non però come gli altri re di Israele che lo avevano preceduto Shalmanazer re d'Assiria salì contro di lui ed Osea gli fu assoggettato e gli pagò tributo ma il re d'Assiria scoprì una congiura ordita da Osea il quale aveva inviato dei messi a So re d'Egitto e non pagava più il consueto annuo tributo al re d'Assiria perciò il re d'Assiria lo fece imprigionare e mettere in catene poi il re di Assiria invase tutto il paese salì contro la Samaria e la sediò per tre anni l'anno nono di Osea il re d'Assiria prese Samaria e trasportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Halat e sullo Abor fiume di Gozan e nelle città dei Medi questo avvenne perché i figlioli di Israele avevano peccato contro l'Eterno il loro Dio che li aveva tratti dal paese d'Egitto di sotto al potere di Faraone re d'Egitto ed avevano riveriti altri dei essi avevano imitati i costumi delle nazioni che l'Eterno aveva cacciato dinanzi a loro e quelli che i re di Israele avevano introdotti i figlioli di Israele avevano fatto in segreto contro l'Eterno il loro Dio delle cose non rette se erano costruiti degli alti luoghi in tutte le loro città delle torri dei guardiani alle città fortificate avevano eretto colonne ed idoli sopra ogni colle elevato e sotto ogni albero verdeggiante e quivi su tutti gli alti luoghi avevano offerto profumi come le nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinanzi a loro avevano commesso azioni malvage provocando a dire all'Eterno e avevano servito gli idoli mentre l'Eterno aveva loro detto non fate una tal cosa eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti dicendo convertitevi dalle vostre vie malvage e osservate i miei comandamenti e i miei precetti seguendo in tutto la legge che ho prescrissi ai vostri padri e che ho mandato a voi per mezzo dei miei servi i profeti ma essi non vollero dagli ascolto e indurarono la loro servisce come avevano fatto i loro padri i quali non ebbero fede nell'Eterno nel loro Dio e ricettarono le sue leggi e il patto che egli aveva fermato con i suoi padri e degli avvertimenti che aveva lordato e andarono indietro a cose vane diventando vani anch'essi e andarono dietro alle nazioni circonvicine che l'Eterno aveva loro proibito di imitare e abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno del loro Dio e si fecero due vitelli di getto si fabbricarono degli idoli da starte adorarono tutto l'esercito del cielo servirono Baal fecero passare per il fuoco i loro figlioli e le loro figliole si applicarono alla divinazione agli incantesimi e si dettero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno provocandolo a Dira perciò l'Eterno si adirò fortemente contro Israele e lo allontanò dalla sua presenza non rimase altro che la sola tribù di Giuda e neppur Giuda osservò i comandamenti dell'Eterno del suo Dio ma seguì i costumi stabiliti da Israele e l'Eterno rigettò tutta la stirpe di Israele la umiliò e la abbandonò in balia dei predoni affinché la cacciò dalla sua presenza poiché quando egli ebbe strappato Israele dalla casa di Davide e quelli ebbero proclamato re Geroboamo figliolo di Nebat Geroboamo distorsi Israele dal seguire l'Eterno e gli fece commettere un gran peccato e i figlioli di Israele si abbandonarono a tutti i peccati che Geroboamo aveva commessi e non se ne ritrassero fino a tanto che l'Eterno mandò via Israele dalla sua presenza come l'aveva predetto per bocca di tutti i profeti i suoi servi e Israele fu trasportato dal suo paese in Assiria dove è rimasto fino al di Doji e il re d'Assiria fece venire genti da Babilonia da Kuta da Avva da Amat da Sefar Vain e stabilì nelle città della Samaria in luogo dei figlioli di Israele e quelli presero possesso della Samaria e dimorarono nelle sue città e quando cominciarono a dimorarvi non temevano l'Eterno e l'Eterno mandò contro di loro dei leoni che facevano strage fra loro fu quindi detto al re d'Assiria le genti che tu hai trasportate e stabilite nelle città della Samaria non conoscono il modo di servire l'iddio del paese perciò questi ha mandato contro di loro dei leoni che ne fanno strage perché esse non conoscono il modo di servire l'iddio del paese allora il re d'Assiria ha detto quest'ordine fate tornare colà uno dei sacerdoti che avete di là trasportati che gli vada a stabilirsi qui vi e insegni loro il modo di servire l'iddio del paese così uno dei sacerdoti che erano stati trasportati dalla Samaria venne a stabilirsi a Beto e insegnò loro come dovevano temere l'Eterno non di meno ognuna di queste genti si fece i propri dei nelle città dove dimorava e li mise nelle case e negli altri luoghi che i samaritani avevano costruito quei di Babilonia fecero Sukkot Benot quelli di Kut fecero Nergal quelli di Avamat fecero Ashima e quelli di Avva fecero Nibaz e Tartac e quelli di Selvavain bruciarono i loro figlioli in onore di Adramelech e di Aramelech dei di Sepharvain e temevano anche l'Eterno e si fecero dei sacerdoti degli altri luoghi che essi prendevano di fra di loro e che offrivano per essi dei sacrifici nelle case degli altri luoghi così temevano l'Eterno e servivano al tempo stesso ai loro dei secondo il costume delle genti di fra le quali erano stati trasportati in Samaria anche oggi continuano nell'antico costume non temono l'Eterno e non si conformano né alle loro leggi e ai loro precetti né alla legge e ai comandamenti che l'Eterno prescrisse ai figlioli di Giacobbe da lui chiamato Israele coi quali l'Eterno aveva fermato un patto quando loro avessero servato quest'ordine non temete altri dei non vi prostrate dinanzi a loro non li servite né offrite loro sacrifici ma temete l'Eterno che vi fe salire dal paese d'Egitto per la sua gran potenza e col suo braccio disteso dinanzi a lui prostratevi e a lui offrite sacrifici e abbiate cura di metter sempre in pratica i precetti le regole la legge e i comandamenti che gli scrisse per voi e non temete altri dei non dimenticate il patto che io formai con voi e non temete altri dei ma temete l'Eterno il vostro Dio che egli vi libererà dalle mani di tutti i vostri nemici ma quelli non obbedirono e continuarono invece a seguire l'anticoloro costume così quelle gente temevano l'Eterno e al tempo stesso servivano i loro idoli i loro figlioli e i figlioli dei loro figlioli hanno continuato fino al di d'oggi a fare quello che avevano fatto i loro padri secondo libro dei re capitolo diciottesimo or l'anno terzo di Osea figliolo della re di Israele cominciò a regnare Ezechia figliolo di Acas re di Giuda aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò ventinove anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Abi figliola di Zaccaria egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Davide suo padre soppresse gli alti luoghi frantumò l'estato e abbatté l'idolo d'astate e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto perché i figlioli di Israele gli avevano fino a quel tempo offerto profumi e lo chiamò Neushatam egli ripose la sua fiducia nell'Eterno nell'Idio di Israele e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero non ve ne fu alcuno simile a lui si tenne unito all'Eterno non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che l'Eterno aveva dati a Mosè e l'Eterno fu con Ezechia che riusciva in tutte le sue imprese si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più soggetto sconfisse i filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio dalle torri dei guardiani alle città fortificate il quarto anno del re Ezechia che era il settimo anno di Osea figliuolo della re d'Israele Shalmanase re di Assiria salì contro Samaria e la sediò in capo a tre anni la prese il sesto anno di Ezechia che era il nono di Osea re d'Israele Samaria fu presa e il re d'Assiria trasportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Allah e sullo arbor fiume di Gozan e nelle città dei Medi perché non avevano ubbidito alla voce dell'Eterno dell'Idioloro ed avevano trasgredito il suo patto cioè tutto quello che Mosè servo dell'Eterno aveva comandato essi non l'avevano né ascoltato né messo in pratica ora il quattordicesimo anno del re Ezechia Sanachirì re d'Assiria salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese ed Ezechia re di Giuda mandò a dire al re d'Assiria all'Achis ho mancato ritirati da me ed io mi sottometterò a tutto quello che mi imporrai e il re d'Assiria impose a Ezechia re di Giuda trecento talenti d'argento e trenta talenti d'oro e Ezechia diede tutto l'argento che si trovava nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa del re e fu allora che Ezechia re di Giuda staccò dalle porte del tempio dell'Eterno e dagli stipiti le lame d'oro di cui egli stesso le aveva ricoperti e le diede al re d'Assiria e il re d'Assiria mandò ad Ezechia dall'Archis a Gerusalemme Tartan con un grande esercito essi salirono e giunsero a Gerusalemme e come furono giunti vennero a fermarsi presso l'acquedotto dello stagno superiore che è sulla strada del campo del lavatore di panni chiamarono il re ed Eliakim figliolo di Ilchia prefetto del palazzo si ricorda loro con Shebna il segretario e Gioa figliolo da Saf l'archivista e Rab-Shakè disse loro andate a dire ad Ezechia così parla il gran re il re d'Assiria che fiducia e cotesta che tu hai tu dici che consiglio e forza per far la guerra non son che parole vane ma in chi metti la tua fiducia per ardire di ribellarti a me ecco tu t'appoggi sull'Egitto su questo sostegno di canna rotta che penetra nella mano di chi vi s'appoggi e gliela fora tale faraone re d'Egitto per tutti quelli che confidano in lui forse mi dite noi confidiamo nell'Eterno nel nostro Dio ma non è egli quello stesso di cui Esachia ha soppresso gli alti luoghi gli altari dicendo al Giuda e a Gerusalemme voi adorerete soltanto dinanzi a questo altare a Gerusalemme or dunque fa una scommessa col mio Signore il re da Siria io ti darò duemila cavalli se tu puoi fornire altrettanti cavalieri da montarli come potresti tu far voltare le spalle a un solo capitano fra gli infimi servi del mio Signore e confidi nell'Egitto a motivo dei suoi carri e dei suoi cavalieri e adesso sono io forse salito senza il volere dell'Eterno contro questo luogo per distruggerlo l'Eterno mi ha detto sali contro questo paese e distruggilo allora Eliakim figliolo di Elkia Shebna e Gioa dissero a Rabshakeh ti prego parla ai tuoi servi in aramico poiché noi lo intendiamo e non ci parlare in lingua giudaica guisa che la gente che sta sulle mura oda ma Rabshakeh rispose loro forse che il mio Signore mi ha mandato a dire queste cose al tuo Signore e a te non mi ha Egli mandato a dirle a quegli uomini che sono seduti sulle mura e saranno quanto prima ridotti a mangiare il loro sterco e a bere la loro urina come voi allora Rabshakeh stando in piedi gridò ad altavoce e disse in lingua giudaica udite la parola del gran re del re d'Assiria così parla il re non vi inganni Ezechia poiché egli non potrà liberarvi dalle mie mani né vi induca Ezechia a confidarvi nell'Eterno dicendo l'Eterno ci libererà certamente e questa città non sarà data nelle mani del re d'Assiria non date ascolta ad Ezechia perché così dice il re d'Assiria fate pace con me e arrendetevi a me e ognuno di voi mangerà del frutto della sua vigna e del suo fico e berrà dell'acqua della sua cisterna finché io venga e vi meni in un paese simile al vostro paese di grano e di vino paese di pane e di vigne paese di olivi di olio di miele e voi vivrete e non morrete non date dunque ascolto ad Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo l'Eterno ci libererà ha qualcuno degli dèi delle gente liberato il proprio paese dalle mani del re d'Assiria e dove sono gli dèi di Amat e di Alpad dove sono gli dèi di Sefarvaim di Ena e di Vea hanno essi liberato Samaria dalla mia mano quali sono fra tutti gli dèi di quei paesi quelli che abbiano liberato il paese loro dalla mia mano l'Eterno avrebbe egli a liberare dalla mia mano Gerusalemme e il popolo si tacque e non gli rispose nulla poiché il re aveva dato quest'ordine non gli rispondete allora Eliachim figliolo di Ezechia prefetto del palazzo Shepner il segretario e Gio figliolo Zassaf l'archivista vennero da Ezechia con le vesti stracciati e gli riferirono le parole di Rab Shaché secondo libro dei re capitolo dicenovesimo quando il re Ezechia ebbe udite queste cose si stracciò le vesti si coprì d'un sacco ed entrò nella casa dell'Eterno e mandò Eliachim prefetto del palazzo Shepner il segretario e i più vecchi tra i sacerdoti coperti di sacchi dal profeta Isaia figliolo di Amoz essi gli dissero così parla Ezechia questo è giorno d'angoscia di castigo ed opprobrio perché figliuoli stanno per uscire dal seno materno ma la forza manca per partorirli forse l'Eterno il tuo Dio ha udite tutte le parole di Rab Shaché che il re da Siria suo signore ha mandato ad oltraggiare l'iddio vivente e forse l'Eterno il tuo Dio punirà le parole che ha udite rivolgili dunque una preghiera a pro del resto del popolo che sussiste ancora i servi del re di Ezechia si recarono dunque da Isaia e Isaia disse loro ecco quel che direte al vostro Signore così dice l'Eterno non ti spaventare per le parole che hai udite con le quali i servi del re d'Assiria m'hanno oltraggiato ecco io metterò in lui uno spirito tale che all'udire una certa notizia egli tornerà al suo paese ed io lo farò cadere di spada nel suo paese Rabshakeh tornò al re d'Assiria e lo trovò che assediava Libna poiché egli aveva saputo che il suo Signore era partito dall'Achis ora Sanakeri ricevette notizie di Tirhaka re d'Etiopia che dicevano ecco egli si è mosso per darti battaglia perciò inviò di nuovo dei messi ad Ezechia dicendo loro direte così ad Ezechia re di Giuda il tuo Dio nel quale tu confidi non ti inganni dicendo Gerusalemme non sarà data nelle mani del re d'Assiria ecco tu hai udito quello che i re d'Assiria hanno fatto in tutti i paesi e come le hanno distrutti e tu scamperesti gli idee delle nazioni che i miei padri distrussero gli idee di Gosam di Haram di Re Tsef i figlioli di Eden che erano a Telesar valsero ad essi a liberarle dov'è il re di Amat il re di Arap il re delle città di Serfavein di Ena e di Iva Ezechia ricevette la lettera per le mani dei messi la lesse poi salì alla casa dell'Eterno e la spiegò davanti all'Eterno e davanti all'Eterno pregò questa preghiera o Eterno il Dio di Israele che si è di sopra i cherubini tu tu solo sei l'Iddio di tutti i regni della terra tu hai fatto i cieli e la terra o Eterno porgi l'orecchio tuo e ascolta o Eterno apri gli occhi tuoi e guarda ascolta le parole di Sena Kerib che ha mandato quest'uomo per insultare l'Idio vivente è vero Eterno i re da Siria hanno desolato le nazioni e i loro paesi e hanno gettato nel fuoco i loro dei perché quelli non erano dei erano opere delle mani degli uomini erano legno e pietra ed essi li hanno distrutti ma ora o Eterno o Dio nostro salvaci te ne supplico dalle mani di costui affinché tutti i regni della terra conoscono che tu solo Eterno sei Dio allora Isaia figliolo di Amoz mandò a dire ad Ezechia così parla l'Eterno l'Idio di Israele ho udito la preghiera che mi ha rivolta riguardo a Sana Kerib da Siria questa è la parola che l'Eterno ha pronunziata contro di lui la vergine figliola di Sion ti sprezza si fa beffe di te la figliola di Gerusalemme scrolla il capo dietro a te chi hai tu insultato ed oltraggiato contro chi hai tu alzata la voce e levati in alto gli occhi tuoi contro il santo di Israele per bocca dei tuoi messi tu hai insultato il Signore e hai detto con la moltitudine dei miei carri io son salito in vetta alle montagne son penetrato nei recessi del Libano io abbatterò i suoi cedri più alti i suoi cipressi più belli e arriverò al suo più remoto ricovero alla sua più magnifica foresta io ho scavato e ho bevuto delle acque straniere con la pianta dei miei piedi prosciugherò tutti i fiumi d'Egitto non hai udito da lungo tempo ho preparato questo dai tempi antichi ne ho formato il disegno ed ora ho fatto sì che si compia che tu riduca città forti in monti di rovine i loro abitanti privi di forza sono spaventati e confusi sono come l'erba dei campi come il verde tenero dei prati come l'erbetta che nasce sui tetti come grano riarso prima che formi la spriga ma io so quando ti siedi quando esci quando entri e quando ti infuri contro di me e per cotesto tuo infuriare contro di me e poiché la tua arroganza è giunta alle mie orecchia io ti metterò il mio anello nelle narici il mio morso in bocca e ti rimenerò indietro per la via che hai fatta venendo e questo ezechia ti servirà da segno quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto il secondo anno quello che crescerà da sé ma il terzo anno seminerete mieterete pianterete vigne e ne mangerete il frutto e ciò che resterà della casa di giuda e scamperà continuerà a mettere radici all'ingiù e a portare il frutto in alto poiché da Gerusalemme uscirà un residuo e dal monte di Sion uscirà quel che sarà scampato questo farà lo zelo ardente dell'eterno degli eserciti perciò così parla l'eterno riguardo al re da Siria egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia non le si farà innanzi con scudi e non eleverà trincee contro ad essa e se ne tornerà per la via onde è venuto e non entrerà in questa città dice l'eterno io proteggerò questa città al fin di salvarla per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo e quella stessa notte avvenne che l'angelo dell'eterno uscì e colpì nel campo degli assiri centocinquantamila uomini e quando la gente si levò la mattina ecco erano tutti cadaveri allora sana che ribre da Siria levò il campo e partì e se ne ritornò a Ninive dove rimase e avvenne che mentre stava adorando nella casa del suo dio Nisroch i suoi figlioli Adramelech Ser e Zerlo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat e Saraladdon suo figliolo regnò in luogo suo secondo libro dei re capitolo ventesimo in quel tempo Ezechia fu malato a morte e il profeta Esaia figliolo di Amoz si recò da lui e gli disse così parla l'eterno metti ordine alle cose della tua casa perché tu sei un uomo morto non vivrai allora Ezechia volse la faccia verso il muro e fece una preghiera all'eterno dicendo o eterno te ne supplico ricordati come io ho camminato nel tuo cospetto con fedeltà e con integrità di cuore e come ho fatto sciò che è bene agli occhi tuoi ed Ezechia dette in un gran pianto Isaia non era ancora giunto nel centro della città quando la parola dell'eterno gli fu rivolta in questi termini torna indietro e di ad Ezechia principe del mio popolo così parla all'eterno lì Dio di Davide tuo padre ho udita la tua preghiera ho vedute le tue lacrime ecco io ti guarisco fra tre giorni salirai alla casa dell'eterno aggiungerò alla tua vita quindici anni libererò te e questa città dalle mani del re da Siria e proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo ed Isaia disse prendete un impiastro di fichi secchi lo presero e lo misero sull'ulcera e il re guarì or Ezechia aveva detto ad Isaia a che segno riconoscerò io che l'eterno mi guarirà e che fra tre giorni salirò alla casa dell'eterno ed Isaia gli aveva risposto eccoti da parte dell'eterno il segno del quale tu riconoscerai che l'eterno adempirà la parola che ha pronunziata vuoi tu che l'ombra s'allunghi per dieci gradini ovvero retroceda di dieci gradini ed El Zacchier rispose è cosa facile che l'ombra s'allunghi per dieci gradini no l'ombra retroceda piuttosto di dieci gradini e il profeta Isaia invocò l'eterno il quale fece retrocedere l'ombra di dieci gradini sui gradini d'Acas sui quali era discesa in quel tempo Berodac Baladan figliuolo di Baladan re di Babilonia mandò una lettera e un dono ad Ezechia giacché aveva sentito che Ezechia era stato infermo Ezechia dette udienza agli ambasciatori e mostrò loro la casa dove erano tutte le sue cose preziose l'argento l'oro gli aromi gli oli finissimi il suo arsenale tutto quello che si trovava nei suoi tesori non vi fu cosa nella sua casa e tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro allora il profeta Isaia si recò dal re Ezechia e gli disse che hanno detto quegli uomini e donde son venuti a te Ezechia rispose sono venuti da un paese lontano da Babilonia Isaia disse che hanno veduto in casa tua ed Ezechia rispose hanno veduto tutto quello che è in casa mia non ve cosa nei miei tesori che non abbia mostrata loro allora Isaia disse ad Ezechia ascolta la parola dell'Eterno ecco i giorni stanno per venire quando tutto quello che è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino al dì d'oggi sarà trasportato a Babilonia e nulla ne rimarrà dice l'Eterno ed i tuoi figlioli che saranno usciti da te che tu avrai generati ne saranno presi per farne degli enucchi nel palazzo del re di Babilonia ed Ezechia rispose ad Isaia la parola dell'Eterno che tu hai pronunziata è buona e aggiunse sì se almeno vi sarà pace e sicurtà durante i miei giorni il rimanente delle azioni di Ezechia e tutte le sue prodezze e come egli fece il serbatoio e l'acquedotto e condusse le acque nella città sono cose scritte nel libro della cronaca dei re di Giuda Ezechia si addormentò con i suoi padri e Menasse il suo figliuolo regnò in luogo suo secondo libro dei re capitolo ventunesimo Menasse aveva dodici anni quando incominciò a regnare e regnò cinquantacinque anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Ef-Ziba ed egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno seguendo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figlioli di Israele egli riedificò gli altiluoghi che Ezechia suo padre aveva distrutti e resse altari a Baal fece un idolo ad Astarte come aveva fatto a Cabre di Israele e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì e resse pure degli altari ad altri dei nella casa dell'Eterno riguardo la quale l'Eterno aveva detto in Gerusalemme io porrò il mio nome e resse altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa dell'Eterno fece passare per il fuoco il suo figliuolo si dette alla magia e agli incantesimi e istituì di quelli che evocavano gli spiriti e predicavano l'avvenire e si abbandonò interamente a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno provocandolo ad Ira mise l'idolo d'Astarti che aveva fatto nella casa riguardo alla quale l'Eterno aveva detto a Davide e a Salomone suo figliuolo in questa casa e a Gerusalemme che io ho scelta fra tutte le tribù di Israele porò il mio nome in perpetuo e non permetterò più che il piede Israele vada errando fuori del paese che io detti ai suoi padri perché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che io ho loro comandato e tutta la legge che il mio servo Mosè ha loro prescritta ma essi non obbedirono e Menasse li indusse a far peggio delle nazioni che l'Eterno aveva distrutte dinanzi ai figliuoli di Israele e l'Eterno parlò per mezzo dei suoi servi profeti in questi termini giacché Menasse re di Giuda ha commesso queste abominazioni e ha fatto peggio di quel che fecero mai gli amorei prima di lui e mediante i suoi idoli ha fatto pecare anche Giuda così dice l'Eterno l'Iddio di Israele ecco io faccio venire su Gerusalemme e su Giuda tali sciagure che chiunque ne udrà parlare ne avrà intronato le orecchie e stenderò su Gerusalemme la cordella di Samaria e il livello della casa di Aqab e ripulirò Gerusalemme come si ripulisce un piatto che dopo ripulito si volta sottosopra e abbandonerò quelli che restano nella mia eredità e li darò nelle mani dei loro nemici e diverranno prede e bottino di tutti i loro nemici perché hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e m'hanno provocato ad ira dal giorno che loro padri uscirono dall'Egitto fino al dì d'oggi Menasse sparse inoltre moltissimo sangue innocente tanto da impirne Gerusalemme da un capo all'altro senza contare i peccati che fece commettere Giuda facendo ciò che è male agli occhi dell'Eterno il rimanente delle azioni di Menasse tutto quello che fece e i peccati che commise si trova scritto nel libro delle cronache del re di Giuda Menasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nel giardino della sua casa nel giardino di Uzza e Amon suo figliuolo regnò in luogo suo Amon aveva ventidue anni quando cominciò a regnare e regnò due anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Meschulamet figliuola di Arutz di Giopta egli fece sciocche male agli occhi dell'Eterno come aveva fatto Menasse il suo padre e seguì in tutto la via battuta dal padre suo servì agli idoli i quali aveva servito suo padre e li adorò abbandonò l'Eterno l'idio dei suoi padri e non camminò per la via dell'Eterno i servi di Amon ordirono una congiura contro di lui e uccisero il re in casa sua ma il popolo del paese mise a morte tutti quelli che avevano congiurato contro il re Amon e fece in sua vece Giosia suo figliuolo il rimanente delle azioni compiute da Amon si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda egli fu sepolto nel suo sepolcro nel giardino di Uzza Giosia suo figliuolo regnò in luogo suo secondo libro dei re capitolo ventiduesimo Giosia aveva otto anni quando incominciò a regnare e regnò trentun'anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Gedida figliuola di Adahia di Bozcat egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide suo padre senza scostarsene né a destra né a sinistra or l'anno diciottesimo del re Giosia il re mandò nella casa dell'Eterno Shafan il segretario figliuolo di Azzalia figliuolo di Mesciulam e gli disse sali da Ilchia il sommo sacerdote e digli che metta assieme il denaro che è stato portato nella casa dell'Eterno e che i custodi della soglia hanno raccolto dalle mani del popolo che lo si consegna ai direttori preposti ai lavori della casa dell'Eterno e che questi lo diano agli operai addetti alle riparazioni della casa dell'Eterno ai legnaiuoli ai costruttori ai muratori e se ne servano per comprare del legname e delle pietre da tagliare per le riparazioni della casa ma non si farà render conto a quelli in mano ai quali sarà rimesso il denaro perché agiscono con fedeltà allora il sommo sacerdote Ilchia disse a Shafan il segretario ho trovato nella casa dell'Eterno il libro della legge e Ilchia diede il libro a Shafan che lo lesse e Shafan il segretario andò a riferirla a cosa al re e gli disse i tuoi servi hanno versato il denaro che si è trovato nella casa e l'hanno consegnato a quelli che sono preposti ai lavori della casa dell'Eterno e Shafan il segretario disse ancora al re il sacerdote Ilchia mi ha dato un libro e Shafan lo lesse alla presenza del re quando il re ebbe udite le parole del libro della legge si stracciò le vesti poi diede quest'ordine al sacerdote Ilchia ed a Iacam figliolo di Shafan e a Akbor figliolo di Micaiah e Shafan il segretario e ad Assia servo del re andate e consultate l'Eterno per me per il popolo e per tutto Giuda riguardo alle parole di questo libro che è stato trovato giacché grande è l'ira dell'Eterno che si è accesa contro di noi perché i nostri padri non hanno obbedito alle parole di questo libro e non hanno messo in pratica tutto quello che è in esso prescritto il sacerdote il sacerdote Ilchia a Iacam Akbor Shafan e Assia andarono dalla profetessa Ulda moglie di Shalum guardaroba figliolo di Tikva figliolo di Ahas essa dimorava a Gerusalemme nel secondo quartiere e quando ebbero parlato con lei ella disse loro così dice l'Eterno l'Idio di Israele diti all'uomo che vi ha mandati da me così dice l'Eterno ecco io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti conformemente a tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto essi m'hanno abbandonato ed hanno offerto profumi ed altri dèi per provocarmi ad ira con tutte le opere delle loro mani perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si estinguerà quanto al re di Giuda che va mandato a consultare l'Eterno gli direte questo così dice l'Eterno l'Idio di Israele riguardo alle parole che tu hai udite giacché il tuo cuore è stato toccato giacché ti sei umiliato dinanzi all'Eterno udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti che saranno cioè abbandonate alla desolazione e alla maledizione giacché ti sei stracciate le vesti e hai pianto dinanzi a me anch'io t'ho ascoltato dice l'Eterno perciò ecco io ti riunirò con i tuoi padri e ti andrà in pace nel tuo sepolcro e gli occhi tuoi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo e quelli riferirono al re la risposta secondo libro dei re capitolo ventitreesimo allora il re mandò a far adunare presso di sé tutti gli anziani di Giude e di Gerusalemme e il re salì alla casa dell'Eterno con tutti gli abitanti di Giuda tutti gli abitanti di Gerusalemme i sacerdoti i profeti e tutto il popolo piccoli e grandi e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa dell'Eterno il re stando in piedi sul palco stabilì un patto dinanzi all'Eterno impegnandosi di seguire l'Eterno ed osservare i suoi comandamenti i suoi precetti e le sue leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima per mettere in pratica le parole di questo patto scritte in quel libro e tutto il popolo acconsentì al patto e il re ordinò al sommo sacerdote il Chia e ai sacerdoti del secondo ordine e ai custodi della soglia di trar fuori dal Tempio dell'Eterno tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal per Astarte e per tutto l'esercito celeste e li arse fuori di Gerusalemme nei campi di Kidron e ne portò le ceneri a Beto ed istituì i sacerdoti idolatri che il re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli altiluoghi delle città di Giuda e dintorni di Gerusalemme e quelli pure che offrivano profumi a Baal al sole alla luna ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo trasse fuori dalla casa dell'Eterno l'idolo d'Astarte che trasportò fuori di Gerusalemme verso il torrente di Kidron l'arse presso il torrente di Kidron lo ridusse in cenere e ne scettò la cenere sui sepolcri della gente del popolo demolì le case di quelli che si prostituivano le quali si trovavano nella casa dell'Eterno e dove le donne tesevano delle tende per Astarte fece venire tutti i sacerdoti delle città di Giuda contaminò gli altiluoghi dove i sacerdoti avevano offerto profumi da Geba a Bershiba e abbatté gli altiluoghi delle porte quello che era l'ingresso della porta di Giosuè governatore della città e quello che era a sinistra della porta della città or quei sacerdoti degli altiluoghi non salivano a sacrificare sull'altare dell'Eterno a Gerusalemme mangiavano però pane a Zimo in mezzo ai loro fratelli contaminò Toffet nella valle dei figlioli di Inom affinché nessuno facesse più passare per il fuoco il suo figliolo o la sua figliola in onore di Molech non permise più che i cavalli consacrati al sole dai re di Giuda entrassero nella casa dell'Eterno nell'abitazione dell'Enuco Netalmelech che era nel recinto del tempio e diede alle fiamme i carri del sole il re demolì gli altari che erano sulla terrazza della camera superiore di Acas e che i re di Giuda avevano fatti e gli altari che aveva fatti menasse nei due cortili della casa dell'Eterno e dopo averli fatti a pezzi e tolti di là ne gettò la polvere nel torrente Kidron e il re contaminò gli altiluoghi che erano di rimpetto a Gerusalemme a destra del monte della perdizione e che Salomone re di Israele aveva eretti in onore di Astarte l'abominazione dei Sidoni di Chemosh l'abominazione di Moab di Milcom l'abominazione dei figlioli di Amon e spezzò le statue abbatté gli idoli di Astarte e riempì quei luoghi d'ossa umane abbatté pure l'altare che era a Beto e l'altro luogo fatto di Geroboamo figliolo di Nebat il quale aveva fatto peccare Israele arse tutto il luogo e lo ridusse in polvere ed arse l'idolo d'Astarte or Giosia voltandosi scorse i sepolchi che erano qui sul monte e mandò a trarre le ossa fuori da quei sepolcri e le arse sull'altare contaminandolo secondo la parola dell'Eterno pronunziata dall'uomo di Dio che aveva annunziate queste cose poi disse che monumento è quello che io vedo là e la gente della città gli rispose è il sepolcro dell'uomo di Dio che è venuto da Giuda e che proclamò contro l'altare di Beto queste cose che tu hai fatte e gli disse lasciatelo stare nessuno muova le sue ossa così le sue ossa furono conservate con le ossa del profeta che era venuto da Samaria Giosia fece anche sparire tutte le case degli altri luoghi che erano nella città di Samaria e che i re di Israele avevano fatte per provocare ad ira all'eterno e fece di essi esattamente quel che aveva fatto di quei di Beto immolò sugli altari tutti i sacerdoti degli altri luoghi che erano colà e su quegli altari bruciò ossa umane poi tornò a Gerusalemme il re diede a tutto il popolo quest'ordine fate la Pasqua in onore dell'eterno del vostro Dio secondo che sta scritto in questo libro del patto poiché Pasqua simile non era stata fatta dal tempo dei giudici che avevano governato Israele e per tutto il tempo del re di Israele e del re di Giuda ma nel diciottesimo anno del re Giosia a cotesta Pasqua fu fatta in onore all'eterno a Gerusalemme Giosia fe pure sparire quelli che evocavano gli spiriti e quelli che predicevano l'avvenire le divinità familiari gli idoli e tutte le abominazioni che vedevano nel paese di Giudea e a Gerusalemme al fin di mettere in pratica le parole della legge scritte nel libro che il sacerdote Ilchia aveva trovato nella casa dell'eterno e prima di Giosia non c'è stato re che come lui si sia convertito all'eterno con tutto il suo cuore con tutta l'anima sua e con tutta la sua forza seguendo in tutto la legge di Mosè e dopo di lui non è sorto alcun simile tuttavia l'eterno non disistette dall'ardore della grande ira onde era infiammato contro Giuda a motivo di tutti gli oltraggi con i quali Menasce lo aveva provocato ad ira e l'eterno disse anche Giuda io torrò dinanzi al mio cospetto come ho tolto Israele e rigetterò Gerusalemme la città che mi ero scelta e la casa della quale avevo detto là sarà il mio nome il rimanente delle azioni di Giosia tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache del re di Giuda al tempo suo Faraone Neco re d'Egitto salì contro il re d'Assiria verso il fiume Eufrate il re Giosia li marciò contro e Faraone al primo incontro l'uccise a Megiddo i suoi servi lo menarono via morto sopra un carro e lo trasportarono da Megiddo a Gerusalemme dove lo seppellirono nel suo sepolcro e il popolo del paese prese Iocas figliolo di Giosia lo unse e lo fece re in luogo di suo padre Iocas aveva ventitre anni quando cominciò a regnare regnò tre mesi a Gerusalemme il nome di sua madre era Emutal figliola di Geremia di Libna egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto i suoi padri Faraone Neco lo mise in catene a Ribla nel paese di Amat perché non regnasse più a Gerusalemme e impose al paese un'idenità di cento talenti d'argento e di un talento d'oro e Faraone Neco fece l'Iacchim figliolo di Giosia in luogo di Giosia suo padre e gli mutò il nome in quello di Gioia e presso Gioachet lo menò in Egitto dove morì Gioia Chim diede a Faraone l'argento e l'oro ma per pagare quel denaro secondo l'ordine di Faraone tassò il paese imponendo a ciascuno una certa tassa cavò dal popolo del paese l'argento e l'oro da dare a Faraone Neco Gioia Chim aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò undici anni a Gerusalemme il nome di sua madre era Zebudda figliola di Pedaia da Roma e gli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come avevano fatto i suoi padri secondo libro dei re capitolo ventiquattresimo al suo tempo venne Nabucanese re di Babilonia e Gioia Chim gli fu assoggettato per tre anni poi tornò a ribellarsi e l'Eterno mandò contro Gioia Chim schiere di Caldei e di Siri schiere di Moabiti schiere di Ammoniti le mandò contro Giuda per distruggerlo secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per mezzo dei profeti i suoi servi questo avvenne solo per ordine dell'Eterno il quale voleva allontanare Giuda dalla sua presenza a motivo di tutti i peccati che Menasse aveva commessi e a motivo pure del sangue innocente che gli aveva sparso e di cui aveva riempito Gerusalemme per questo l'Eterno non volle perdonare il rimanente delle azioni di Gioia Chim tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache del re di Giuda e Gioia Chim si addormentò con i suoi padri e Gioia Chim suo figliolo regnò in luogo suo ora il re d'Egitto non uscì più dal suo paese perché il re di Babilonia aveva preso tutto quello che era stato del re d'Egitto dal torrente d'Egitto al fiume Eufrate Gioia Chim aveva diciotto anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme tre mesi sua madre si chiamava Netusha figliolo di Ernatan di Gerusalemme egli fece sciocche e male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto suo padre in quei tempi i servi di Nebuchadnase re di Babilonia salirono contro Gerusalemme e la città fu scinta d'assedio e Ebuchadnase re di Babilonia giunse davanti alla città mentre la sua gente la stava assediando allora Gioia Chim re di Giuda si recò al re di Babilonia con sua madre i suoi servi i suoi capi e i suoi enuchi e il re di Babilonia lo fece prigioniero l'ottavo anno del suo regno e come l'Eterno aveva predetto portò via di là tutti i tesori della cassa dell'Eterno i tesori della cassa del re e spezzò tutti gli utensili d'oro che Salomone re di Israele aveva fatti per il tempio dell'Eterno e menò in cattività tutta Gerusalemme tutti i capi tutti gli uomini valorosi il numero di diecimila prigioni e tutti i legnaiuoli i fabbri e non vi rimase che la parte più povera della popolazione del paese e deportò Gioiacchim a Babilonia e menò in cattività da Gerusalemme a Babilonia la madre del re le mogli del re gli enucchi di lui i magnani del paese tutti i guerrieri il numero di sette mila i legnaiuoli i fabbri il numero di mille tutta gente valorosa e alta alla guerra il re di Babilonia li menò in cattività a Babilonia e il re di Babilonia fece re in luogo di Gioiacchim Mattania zio di lui al quale mutò in nome in quello di Zedekia Zedekia aveva ventun anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme undici anni sua madre si chiamava Amutal figliola di Geremia da Libna egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto Gioiacchim e a causa dell'ira dell'Eterno contro Gerusalemme e Giuda le cose arrivarono al punto che l'Eterno li cacciò via dalla sua presenza secondo libro dei re capitolo venticinquesimo e Sedakia si ribellò al re di Babilonia l'anno nono del regno di Sedakia il decimo giorno il decimo giorno del decimo mese Nebucadnase re di Babilonia venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme si accampò contro di lui e le costruì attorno delle trincee e la città fu assediata fino all'undicesimo anno del re di Sedakia e nono giorno del quarto mese la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese allora fu fatta una breccia alla città e tutta la gente di guerra fuggì di notte per la via della porta fra le due mura in prossimità del giardino del re mentre i caldei stringevano la città da ogni parte il re prese la via della pianura ma l'esercito dei caldei lo inseguì e lo raggiunse nelle pianure di Gerico e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò allora i caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia a Ribla dove fu pronunziata sentenza contro di lui i figlioli di Sedachia furono scannati in sua presenza poi cavarono gli occhi a Sedachia lo incatenarono con una doppia catena di rame e lo menarono a Babilonia ora il settimo giorno di quel mese era il diciannovesimo anno di Nabucadnese re di Babilonia Nebusar Adan capitano della guardia del corpo servo del re di Babilonia giunse a Gerusalemme e darse la casa dell'eterno e la casa del re e diede alle fiamme tutte le casse di Gerusalemme tutte le casse della gente riguardevole e tutto l'esercito dei caldei che era col capitano della guardia atterrò da tutte le parti le mura di Gerusalemme Nebusar Adan capitano della guardia menò in cattività i supestisi che erano rimasti nella città e i fuggiaschi che si erano arresi al re di Babilonia e il resto della popolazione il capitano della guardia non lasciò che alcuni dei più poveri del paese a coltivare le vigne e dei campi i caldei spezzarono le colonne di rame che erano nella casa dell'eterno le basi il mare di rame che era nella casa dell'eterno e ne portarono via il rame a Babilonia presero le pignate le palette coi coltelli le coppe e tutti gli utensili del rame con i quali si faceva il servizio il capitano della guardia prese pure i bracieri i bacini d'oro di ciò che era d'oro l'argento di ciò che era d'argento e quando alle due colonne il mare e le basi che Salomone aveva fatti per la casa dell'eterno il rame di tutti quegli oggetti aveva un peso incalcolabile l'altezza di una di queste colonne era di diciotto cubiti e vera su un capitello di rame alto tre cubiti e attorno al capitello verano un reticolato e delle melagrane di ogni cosa di rame lo stesso era della seconda colonna munita pure di reticolato il capitano della guardia prese Seraia il sommo sacerdote Sofonia il secondo sacerdote e i tre custodi della soglia e prese nella città un enucco che comandava la gente di guerra cinque uomini fra i consiglieri intimi del re che furono trovati nella città il segretario del capo dell'esercito che arruolava il popolo del paese e sessanta privati che furono anch'essi trovati nella città Nebusar Adam capitano della guardia li prese e li condusse al re di Babilonia a Ribla e il re di Babilonia li fece colpire a morte a Ribla nel paese di Amath così Giuda fu menato in cattività lungi dal suo paese quanto al popolo che rimase nel paese di Giuda lasciatovi da Nebuchadnezzer il re di Babilonia il re pose a governarli Gedalia figliolo di Iacan figliolo di Shaphan quando tutti i capitani della gente di guerra e i loro uomini ebbero dito che il re di Babilonia aveva fatto Gedalia governatore si recarono da Gedalia a Mizpah erano Ismaeli figlioli di Netania Jonathan figliolo di Cherah Seraya figliolo di Tanatumet da Netofat Giazania figliolo d'uno di Maqat con la loro gente Gedalia fece ad essi e alla loro gente un giuramento dicendo non vincutano timore i servi dei caldei restate nel paese serviti al re di Babilonia e ve ne troverete bene ma il settimo mese Ismael figliolo di Netania figliolo di Elishama di stirpe reale venne accompagnato da dieci uomini e colpirono a morte Gedalia assieme con Giudei e con caldei che erano con lui a Mizpah e tutto il popolo piccoli e grandi e i capitani della gente di guerra si levarono e se ne andarono in Egitto perché avevano paura dei caldei il trentesimo anno della cattività di Joachim re di Giuda il ventisettesimo giorno del dodicesimo mese Evil Merodach re di Babilonia l'anno stesso che cominciò a regnare fece grazie a Joachim re di Giuda e lo trasse di prigione li parlò benignamente e mise il trono d'esso più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia gli fece mutare le vesti di prigione e Joachim mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che i visse il re provvide continuamente al suo mantenimento quotidiano fin tanto che visse di Babilonia